Allora, quello che vediamo oggi è l'analisi strutturale in campo non lineare, che è uno degli aspetti anche più difficili dell'analisi di una costruzione, una struttura, e in particolare vedremo quelle che sono oggi, quelle che sono le mie idee sull'analisi strutturale. Allora, questo è l'indice della nostra presentazione, qui c'è una prima parte essenzialmente legata all'impostazione dell'analisi strutturale e a vedere le caratteristiche del problema strutturale, dopodiché passiamo agli aspetti anche più numerici, vedendo schemi risolutivi inizialmente in forma elementare e successivamente, infine, a schemi risolutivi più avanzati. La risposta strutturale. Per impostare il problema di una struttura, in genere, io mi ricordo anche quando ho cominciato a studiare questi temi, ci sono essenzialmente due vie. Una prima via è essenzialmente analitica, matematica, anche astratta, che fa riferimento, per dirla in maniera semplice, alle equazioni. C'è invece un'altra via che è forse più ingegneristica, ovvero considera parte da considerazioni meccaniche, quindi ha in testa la struttura e qui, per esempio, la struttura più insieme che possiamo vedere è chiaramente una molla, come conosciamo già da meccanica razionale, in cui c'è legame costitutivo, equilibrio e poi alla fine legame spostamento, forza spostamento. Ecco, in termini generali questa visione elementare può essere estesa da qualsiasi struttura. Qui abbiamo la generica risposta strutturale, in cui abbiamo fondamentalmente in ordinata un parametro di carico, come può essere tipicamente il carico, il valore di qualsiasi azione che sollecita la nostra struttura e qua abbiamo invece la risposta strutturale in termini di spostamenti. Ecco, come si vede c'è all'inizio una prima parte lineare fino a un certo valore del carico, punto A, dopodiché ci si discosta dal comportamento lineare e usualmente per le strutture, diciamo quelle che presentano un cosiddetto softening, si arriva a un massimo, valore limite, dopodiché c'è una fase decrescente fino alla rottura complessiva della struttura. Qui ci sono chiaramente indicati dei valori che sono anche tipici del nostro modo di dire, per esempio carico massimo, comportamento precritico, comportamento postcritico, si può anche definire in certe occasioni, pensiamo alla sismica anche o in altre situazioni, un carico efficace che la struttura può sopportare. Queste sono quindi le considerazioni elementari, la prima parte lineare che consiste, è racchiusa tendenzialmente negli stati limiti di esercizio, mentre una seconda parte c'è chiaramente il comportamento ultimo che finisce negli stati limiti ultimi e anche una situazione ancora più estrema che riguarda i cosiddetti stati limiti di integrità strutturali. Subito, una prima cosa che possiamo notare è anche questo, una struttura, pensiamo questa trave qui semplicemente appoggiata, può essere cimentata o applicando un carico, in questo caso qui la forza F oppure può essere anche cimentata da un cedimento di questo vincolo, questa struttura è identica a questa solo che ha questo carrello all'estremità che cede e in questo caso qui il cedimento possiamo dire che assume il valore C. Bene, esiste questa dualità qui, se il cedimento C è uguale allo spostamento Q, nel caso sopra, la reazione che io ho è uguale alla forza F e vale anche il viceversa. Questo modo di fare è uguale, ma però dietro dei significati meccanici ben precisi. Per esempio, quando si collauda un ponte come in questo caso qui, normalmente si applica un carico direttamente sulla struttura e si vede per esempio di quanto si abbassa. Viceversa, tipicamente in un laboratorio è meglio, più opportuno, e vedremo anche quali sono i vantaggi, applicare uno spostamento come in questa macchina di prova attraverso questo martinetto che abbassa la trave e fa contrasto su questo telaio qui per ottenere una risposta strutturale. Bisogna anche dire che il termine, la distinzione carico imposto, spostamento impresso, fa anche riferimento a tipi di azioni differenti. Per esempio, il vento è un'azione che agisce come un carico imposto sulla struttura, tipicamente è una pressione su una superficie. Viceversa, il sisma è tipicamente un'azione che si esercita con uno spostamento impresso, che poi in forma elementare, in alcuni casi, per semplicità, per comodità, venga trasformato in un carico. Questo è una forza agente e questo è un altro aspetto. In termini, diciamo, matriciali, qui è riassunta il modo di trattare gli spostamenti imposti. Questo è il metodo di spostamenti in cui, diciamo, elementare, ben nota, la formulazione matriciale, matricigiezza per il vettore spostamento uguale a cariche applicate. Qui ci sono alcune manipolazioni che rendono conto di come si possono imporre degli spostamenti alla struttura, con un formalismo che più o meno essenzialmente è indolore rispetto a situazioni in cui ci sia solo forza applicate. Bene, è interessante notare la differenza, ovvero quello che si può ottenere in termini di risposta strutturale, operando a carico applicato, carico imposto, spostamento impresso. Qui vedete, per esempio, la struttura è sempre la stessa rappresentata da questa curva qui e qui vedete che è applicato un carico, si arriva nel punto A e questo è lo spostamento che rappresenta l'equilibrio della struttura sotto quel carico lì. Questo è il procedimento duale. Si parte imponendo questo cedimento, si arriva al punto B e si attiene questa reazione vincolare qua. Ecco, come si può vedere, se questi spostamenti qua, questo spostamento qua è uguale a questo cedimento qua, questa reazione vincolare qui è uguale a questa forza qua. Nella fase precritica, quindi prima di arrivare al culmine della risposta, alla massima capacità fornante strutture, i due modi operare sembrano essenzialmente equivalenti. Questo non è così, non è vero, quando si vuole cercare di prendere il ramo post-critico, cioè dopo il massimo. Come vedete, se io opero carico applicato, aumentando il carico, a un certo punto non ottengo nessuna risposta. La struttura collassa. Viceversa, se io obbligo spostamento in posto, anche dopo lo spostamento massimo posso ricavarmi la reazione e quindi posso percorrere completamente tutto il tratto della risposta strutturale. Questo è importante perché, per esempio, ci sono delle qualità strutturali come la duttilità che sono legate proprio alla forma di questo tratto post-critico, ovvero quest'area qui che rappresenta il lavoro che deve essere introdotto nella struttura per romperla completamente. Due modalità che sono, diciamo, pertinenti a questo modo di operare a spostamento in posto sono il pushover, in cui essenzialmente nelle varie forme, con anche degli artifici numerici più o meno elaborati, si impone o uno spostamento o una qualche distribuzione di carico e si misura in corrispondenza lo spostamento significativo della struttura. In questo caso qui, in questo edificio qua, tipicamente può essere lo spostamento o il drift a sommità e poi possiamo anche ricavarci tutti i drift intermediti. La stessa modalità è utilizzata in situazioni differenti. Prima il pushover, tipicamente utilizzato in sismica, mentre questa versione qua, in cui essenzialmente si considerano i carichi verticali, tipicamente la gravità effettivamente incrementata e che dà luogo alla formulazione del push down, è tipicamente utilizzata per vedere cosa succede quando un elemento, tipicamente un pilastro, una colonna, cede. Ed è uno dei test numerici che si fanno per vedere la capacità di una struttura a assorbire danni tipicamente per la robustezza. I due processi, soprattutto il processo di imposizione di uno spostamento impresso, devono essere però attentamente valutati perché un conto è soltanto considerare un incremento monotono crescente di forza oppure di spostamento e un conto vedere il comportamento ciclico della struttura. Per esempio, queste due strutture qui, quella a destra e quella a sinistra, hanno entrambi lo stesso profilo, lo stesso scheletro di risposta a comportamento monotono crescente. Ma se si sviluppa un pushover, per esempio, o si impone una storia, diciamo, in termini generali di spostamento ciclico, si vede che, per esempio, le due strutture possono avere comportamenti completamente differenti e quindi con capacità dissipative completamente differenti. Questo qui, per esempio, può essere un elemento in acciaio che lavora sia a trazione che a compressione. Questo qui, per esempio, potrebbe essere soltanto un elemento di acciaio che lavora solo a trazione e non a compressione. Allora, il passo successivo che facciamo è riflettere un attimo, chiaramente partire dal concetto di linearità e proporzionalità. Ecco, questa è una distinzione un po' scudola, diciamo, un po' delicata. Allora, condizioni per linearità sono queste, materiale, elastico lineare, spostamenti sono piccoli, quindi posso scrivere le equazioni di equilibrio e la configurazione deformata della struttura e i vincoli sono bilateri, quindi funzionano sia nella compressione che a trazione, ovvero in una direzione o nell'altra. Per esempio, se parliamo di oggi. Se sono verificate queste tre ipotesi, la soluzione di problema strutturale esiste ed è unica ed è definita generale energia potenziale totale. Qui vedete l'aspetto linearità e la definizione di energia potenziale totale. In entrambi i casi c'è una soluzione unica, ben definita. Se in più vale anche questa quarta ipotesi, ovvero non esistono stati di sforzo di deformazione iniziale, perché non ci sono o azioni o deformazioni impresse, la risposta alla struttura è proporzionale. E vale anche il principio di sovrapposizione di effetti che adesso vedete. Vedete, se il comportamento è lineare, la situazione è questa, ovviamente il comportamento lineare. Però vedete che se ho il carico P segnato che ha questa soluzione qua, questo spostamento qui F segnato, se applico un altro carico P segnato, quindi raddoppio il carico, lo spostamento diventa questo più questo e non è vero che questo spostamento qui si raddoppia. Quindi c'è linearità ma non proporzionalità. Se però non esistono equazioni o stati di sforzo iniziali, vedete che effettivamente in questo caso qui la proporzionalità esiste, nel senso che se io raddoppio questo carico qui, raddoppia anche il spostamento corrispondente. Qui vedete se vale la proporzionalità, quindi vanno tutte e quattro le ipotesi, principio e sovrapposizione degli effetti. Quindi vedete che se ho questo carico qui che mi produce questo spostamento qua, questo carico qui che mi produce questo spostamento qua, la loro somma mi produce lo spostamento che è somma dei due spostamenti. Questo è l'aspetto intensivo, come vedete, che abbiamo l'intensità del carico rispetto a un parametro di risposta strutturale. Questo invece è l'aspetto estensivo, ovvero lungo, la struttura. Se per esempio abbiamo questa trave con questo sbalzo qui, con questi due carichi qui, questo carico qui produce questo momento, questo carico distribuito produce quest'altro momento qua, quando ci sono tutti e due, il momento risultante lungo la struttura, lungo l'estensione della struttura, è la somma dei due diagrammi dei momenti. La stessa cosa si può fare qui, è un esercizio semplice di tecnica di costruzione relativamente agli spostamenti. Non li ha niente. Ecco, adesso qui affrontiamo quindi quello che è la sorgente di tutte le nostre problematiche. E anche qui, tra tanti modi per introdurre, anche interpretare le nonetà, ci possono essere una struttura, chiaramente l'aspetto, l'insight, nel comportamento meccanico, secondo me è essenziale. Non è un materiale. Qui ci sono tutti i fenomeni che riguardano il fatto che al crescere della deformazione, tipicamente la struttura ha un materiale che cambia di caratteristiche, ha questa progressiva deformazione. Ci può essere anche la dipendenza della storia, un carattere anolonomo, cioè lo stato di sforzo nell'intera struttura dipende dalla storia, evidentemente di carico, non deformativa. Poi ci possono essere anche fenomeni, diciamo, di condivisione. Questo è quindi tipicamente il diagramma più semplice tratta dal libro di Baate, che è uno dei testi di riferimento per questa lezione qua. Questo sopra è il comportamento lineare, masico lineare, con la legge di Hooke ben nota. Qua sotto, per esempio, è la più semplice risposta, il più semplice comportamento non lineare, con un comportamento bilatero, con un certo incordimento. Ecco, in generale ci sono questi aspetti che devono essere sottolineati. Sopra abbiamo un comportamento olonomo, quindi irreversibile. Quindi tipicamente è un comportamento elastico, qui lineare, qua non lineare. Come vedete, il percorso che io faccio in fase di carico è uguale al percorso che seguo nella fase di scarico. Qui sotto, invece, abbiamo un comportamento che è anolonomo, ovvero irreversibile. Vedete che con la linea rossa io percorro una certa fase di carico, mentre lo scarico segue un altro percorso. Questo è un comportamento tipico con plasticità, in cui essenzialmente la pendenza dello scarico è uguale alla pendenza iniziale del mio materiale. Qua invece abbiamo un degrado progressivo, con un danneggiamento del comportamento materiale, legato al fatto che questa pendenza qui è più piccola di quella che avevo inizialmente per i materiali vergine, diciamo, prima che lo sollecitassi. Uno degli aspetti significativi è che la curva in rosso, come abbiamo visto prima, essenzialmente viene definita come il profilo, ovvero lo skeleton del legame costitutivo. È uguale, essenzialmente, sia per i materiali in fase di materiali olonomi e olonomi. La differenza tra i due comportamenti si vede nella fase di scarico. Vedete infatti che nella fase di carico non mi accorgo della differenza tra un comportamento olonomo o anolonomo. Quando però scarico vedo che percorro una curva. Questo è il tipico comportamento civico nel caso di acciaio, e si vede chiaramente che il comportamento è differente alla fase di carico o di scarico. Questo per esempio è un implementato, un legame elasto plastico, un colcio di carico come Strauss, e vedete qui è un comportamento con un incrudimento isotropico, in cui aumenta l'ampiezza del ciclo, mentre questo è un incrudimento cosiddetto cinematico. Sono due tipi di comportamenti tipici del materiale. Prima di lasciare questa parte sulla nonità di materiale, vorrei porre la vostra attenzione su due modi, due o tre modi diciamo semplici, basati proprio su considerazioni meccaniche con cui si può tenere conto dell'unità di materiale. È chiaro che l'unità di materiale la si può campionare nei punti di Gauss in tante maniere e così via, però come dicevo all'inizio di questa lezione qua è sempre bene, a mio giudizio, avere in testa qualcosa che sia un'idea, una visione che sia meccanica. Qui per esempio avete il famoso modello di Drucker di Trave, quella che volgarmente al giorno d'oggi è anche stata riscoperta come modello a fibre, eccetera. In effetti Drucker negli anni 50, quindi negli anni 50, è un prodotto, questo è un modello molto semplice che materializza, qui vedete, la sezione che ruota e trasla restando piano di dessanvenante. Poi le singole fibre sono immaginate come delle aste che lavorano soltanto a sforzo monoassiale, come è nella teoria delle travi e quindi per esempio imponendo a ciascuna di queste bielle qua, con questo vincolo cinematico che ripeto rappresenta la sezione dessanvenante che ruota e trasla restando piano, dicevo imponendo a ciascuna di queste barre qui un comportamento non lineare, si riesce a riprodurre o a simulare un qualsiasi comportamento della trave in campo non lineare di tutti i tipi, anche presentando tipicamente le disomogeneità perché una di queste barre potrebbe essere per esempio di acciaio e le altre per esempio di calcestruzzo. Dirò di più per esempio anche un altro modello estremamente utile per rappresentare, riuscire a approssimare comunque un comportamento meccanico non lineare comunque complicato, è quello di considerare un modello layered, ovvero un modello con più strati, che vedete per esempio degli strati piani di sforzo, in cui i nodi sono tutti coincidenti, quindi qui sono tutti per esempio tipicamente elementi 4 noti, quadrilateri, sovrapposti uno sopra l'altro, con spessore opportuno e con leggi costitutive differenti. In questa maniera qui si può comunque, con questo modello a overlay, si può comunque rappresentare complessivamente un comportamento strutturale comunque complesso. C'è da dire che per esempio non tutti i codici di calcolo permettono di sovrapporre elementi sulle stesse, sui stessi nodi, alcuni segnalano soltanto un warning, chiaramente in generale può essere un errore dell'analista, aver sovrapposto elementi finiti uno sopra l'altro, sui stessi nodi, con le stesse incidenze, però in questo caso qui è evoluto, quindi per esempio in questo caso qui il codici di calcolo che si utilizza deve permettere, eventualmente segnalare con un warning che ci sono elementi sovrapposti con le stesse incidenze, però permettere comunque di svolgere l'analisi. Ancora di più per esempio, questo è un modello che permette addirittura di modellare lo sfilamento di un elemento rispetto ad altro. Qui chiaramente il riferimento è alla non perfetta aderenza di una barra di acciaio, questa, rispetto all'altra vincimento armato. Vedete che quindi sovrapponendo la barra di acciaio con eventualmente un certo disassamento, un certo offset e imponendo un certo legame tra lo scorrimento, gli spostamenti di questa barra e il spostamento della matrice di calcestruzzo, si riesce a modellare tutti i fenomeni di aderenza, anche eventualmente con un comportamento ciclico. Ecco, tutti questi tre modelli qui che abbiamo messo in sequenza vedete, attingono fondamentalmente a delle idee meccaniche, pensano a come si comporta la struttura, eventualmente con la barra che si sfila, eccetera, e quindi in un certo senso, a mio modo di vedere, sono forse anche più robusti, più vicini alla realtà e quindi sono anche più efficaci nel rappresentare. Ecco, adesso vediamo una delle unità più importanti, delle solite anche più canoniche, più classiche nell'analisi strutturale, che è una unità di giro. Essenzialmente abbiamo questi successivi livelli di analisi in cui si vede come si tiene conto dei spostamenti della struttura. Allora, con la teoria del primo ordine si consigliano essenzialmente spostamenti piccoli, in termini geometrici, quindi valgono tutte le approssimazioni analitiche, tipo confondere il seno di un angolo con l'angolo, eccetera, e essenzialmente l'equilibrio si scrive nella configurazione indeformata della struttura. Nel secondo caso, la teoria del secondo ordine, i spostamenti sì sono piccoli, quindi valgono sempre le approssimazioni analitiche tipo seno dell'angolo uguale all'angolo e così via, ma si ritengono questi spostamenti siano comunque influenti sulle condizioni di equilibrio. L'equilibrio quindi deve essere scritto nelle configurazioni deformate a struttura. Successivamente, vedete qui, si passa a spostamenti che sono grandi, quindi in generale anche grandi rotazioni, ma le deformazioni possono essere piccole. E infine l'ultimo livello è chiaramente quando ci sono grandi spostamenti e grandi deformazioni. Ecco, proprio con riferimento a quest'ultima distensione qui vediamo un'immagine sempre trattata al libro di Bate, qui si vedono grandi spostamenti e grandi rotazioni. Per esempio, vedete questo quadrato qui, questo elemento qua, si sposta e è ruota, per esempio, anche di un angolo che è circa 20 gradi, però resta essenzialmente con deformazioni piccole. Qui invece è l'opposto, nel senso che l'elemento di strastra è ruota e poi anche si deforma con deformazioni che veramente sono grandi. Qui abbiamo anche un'altra, dobbiamo introdurre, anche ripeterci, un'altra terminologia che usiamo normalmente, ovvero quella degli aspetti legati al formenoso effetto P delta. Allora, questa è la situazione in cui usiamo la teoria del primo ordine, in cui sotto questi carichi qua l'elemento si sposta, però fondamentalmente noi scriviamo l'equilibrio e la configurazione in deformata. Quindi teniamo sempre che il carico P sia nella configurazione in deformata struttura. Qui invece teniamo conto che la struttura si muove in qualche maniera, per esempio questa nodo si sposta come qui, come in questo caso qui, però l'equilibrio lo scriviamo in una configurazione deformata. Quindi consideriamo che questo carico qua P si è posto qui a seconda di come si è spostato il nodo in testa di questa corona. E in questo caso qui, effettivamente, l'equazione equilibrio ha un altro significato, perché oltre al momento dato da H grande per H piccolo, c'è anche questo, c'è anche il momento dato da P verticale per questo delta iniziale. Questo è l'effetto P delta, quindi tiene conto dello spostamento, dello sbandamento e il fatto che i carichi verticali in questo sbandamento creano un momento. Se dovessimo fare in effetti grandi spostamenti, grandi rotazioni, dovremmo tener conto che in effetti questo cerniera qui si abbassa, perché si muove in questa linea d'asse, in effetti per esempio possiamo pensare di rinunciare a tenere in conto delle formazioni assiale del nostro elemento verticale, quindi la colonna possiamo ritenere che è sempre più o meno alta, ovvero un spostamento di H, non è più per H grande, ma per questo spostamento qui, che è un H per coseno di θ. Quindi questo è essenzialmente lo stesso quadro che abbiamo detto prima degli spostamenti. Qua sotto il termine col coseno di θ è quello che tiene conto dei grandi spostamenti, di grande rotazione, però qui dobbiamo anche introdurre un secondo effetto, accanto all'effetto PΔ che riguarda lo spostamento degli estremi, di un estremo dell'asta rispetto all'altra, come in questo caso qui, c'è anche un cosiddetto effetto PΔ piccolo, che riguarda lo spostamento che c'è tra la mezzeria del nostro elemento e la secante di due estremi. Vedete che in effetti se c'è questa curvatura qui, di questa asta qui, in questa zona qui cresce un momento aggiuntivo, dato dall'effetto PΔ piccolo, che è qualcosa di aggiuntivo rispetto al momento PΔ dato dall'effetto PΔ grande. Qui anche questo dipende anche da, parlando di elementi BIM con l'italia di geometria, dipende anche da come sono implementati questi contributi nella matrice di rigidezza, nei carichi, nei vari software. Una delle cose che si può dire è che per esempio, per tenere conto di questo PΔ piccolo, un trucco che può essere, può approssimare la situazione, è suddividere l'elemento in modo tale che ci sia un nodo qua in mezzo che bene o male, con un altro effetto PΔ grande complessivamente, riesce a simulare questo effetto qui per certi versi secondarie. Questo dipende chiaramente dalla formulazione che è contenuta nel varico C di calcolo. Già su questa cosa qui, per esempio, pensare a come poter simulare questo effetto qui, anche se magari nel C di calcolo la formulazione non è presente, è un aspetto che è essenziale ed è tipico di tutti i C di calcolo, nel senso che lo strutturista, l'analista, deve avere in testa qual è il fenomeno, questo. Sapere che magari il proprio C di calcolo presenta soltanto questo qui e dopo deve riuscire a simulare in qualche maniera con qualche trucco, che poi è soltanto un aspetto di modellazione, approssimare il fenomeno che non è direttamente presente nel C di calcolo, ma che comunque si può rappresentare. Qui c'è un altro aspetto che è assolutamente significativo, interessante, è un effetto, se volete, PΔ in orizzontale. Vedete, se io non ho questo elemento qua, qui ho una situazione con un arco a tre cerniere, che chiaramente è, con il periodo del primo ordine, se considero la situazione indeformata delle due aste, è una struttura labile, quindi non possibile, non possibile di equilibrio. Se però considero che in effetti questo nodo si abbassi un po', le due aste, le due bielle risate, si allungano, quindi nascono delle forze di trazione, un effetto catenare che può permettere di stabilire l'equilibrio di questa struttura qui. Ecco, se il codice di calcolo permette il PΔ, diciamo, orizzontale, può riuscire a cogliere anche questo PΔ che in effetti è in orizzontale. Anche qui vedete la stessa cosa del pushover, pushdown, non bisogna fermarsi a considerare solo la struttura in orizzontale o in verticale, ma chiaramente si può pensare di ruotarla, vedendo che sono di interesse opportuni per sviluppare l'analisi. Questa è una tabella del BAT in cui sono reacchiuse tutte le possibili formulazioni in termini più generali di unità geometriche, in cui quello che è interessante notare è che entro in un gioco, soprattutto quando si va in grandi spostamenti, grandi rotazioni, grandi deformazioni, tutta un elenco, una farmacopea, una formulazione di tensore, di sforzo o di deformazioni che sono abbastanza complicate, ma però, diciamo, non sono comunque accessibili e sia nel caso utilizzabili. Su questi aspetti qui non penso di entrare, anche perché dopo sono specifici situazioni particolari. Il messaggio che provo a trasmettere è questo, a seconda del tipo di formulazione uno deve entrare e pensare di utilizzare giustamente delle opportune descrizioni sia dello stato di sforzo che dello stato di sforzo. Un aspetto, diciamo, tra tanti aspetti di unità geometriche che potrei farvi vedere, uno che mi sembra particolarmente interessante e che permette anche di entrare e di apprezzare quelle che sono le ipotesi normali alla base della teoria delle trave è l'organizzazione di una struttura, di una sezione di una trave. Questo tubo qua è interrato. Questo è chiaramente un tubo che è compresso al contorno e per effetto del carico è proprio di forma. Questa è una modellazione che rappresenta il vincolo elastico del suolo al contorno e il carico eventualmente in testa, in chiave al nostro tubo. E qui vedete com'è la risposta. In funzione del carico B, vedete c'è un carico critico euleriano, in cui il tubo si instabilizza come sezione. Qui è chiaramente una sezione considerata un stato piano di deformazione in lunghezza del tubo unitare. Vedete l'andamento della freccia. Se non si considera l'ovalizzazione, quasi si considera l'ovalizzazione della condotta. Come vedete, se si considera l'ovalizzazione della condotta, il tubo si schiaccia, quindi ha una rigida inerzia, un'inerzia sezionale che diminuisce e chiaramente la freccia aumenta. Questo invece per quanto è uguale al momento. Questo è un effetto che di solito viene trascurato, per esempio, un effetto che può essere trascurato se si considera, secondo la sezione, quindi il tubo indeformato nella sua sezione, il profilo è indeformato, mentre se si ugualizza c'è questo effetto qui, geometrico, che fa diminuire la rigidezza. L'ultima categoria di numerità è la numerità di vincolo, che è sempre un po' un tipo di numerità, di comportamento meccanico e sottaciuto. Qui essenzialmente vuol dire che al crescere il carico, variano o sono alterate le condizioni del contorno. Tipicamente, questa è la situazione tipica di un respingente, cresce di questa forza qui, questo quadrilettro qui si allunga, ad un certo punto entra in gioco, quando viene chiuso questo gap qua, viene chiuso, diciamo, un quadrilettro entra in contatto con questa molla e cambia chiaramente, c'è l'altro chiaramente. Questo è tipico anche dei vincoli interni, come possono essere questi collegamenti qua, questa è chiaramente una flangia interna, tra due travi, questa e questa qui, e qui vedete chiaramente il vincolo è monolatro, nel senso che nella parte inferiore, dove c'è trazione, il vincolo, le due flange si staccano e quindi alterano condizioni al contorno, mentre la parte di compressione è contatto e diretto. L'altra tipica condizione di unità di vincolo è chiaramente il fenomeno del martellamento, quando per esempio questo edificio qui entra in urto con questa parte qua. In generale, se uno vuole vedere più in profondo questo tipo di unità, in effetti, questo è un comportamento particolare, come se il vincolo fosse un materiale che ha caratteristiche non lineari. Per esempio, nel caso del respingente che abbiamo visto prima, possiamo ritenere che ci sia una molla con un comportamento bilineare no tension, quindi quando c'è trazione qui c'è aria, quindi non c'è nessuna risposta strutturale, mentre quando c'è compressione c'è una certa rigidezza. In maniera duale potrebbe esserci un comportamento no compression, come è tipico ad esempio delle funi, che quando sono tese hanno una certa rigidezza e quando sono compresse hanno un comportamento nullo. Quindi questo tipo di unità, per esempio, è un tipo di unità che viene detta anche un off, c'è quando c'è compressione, non c'è quando c'è trazione, in questo caso qui in maniera duale questa cosa qui. Come vedete vale sempre la pena, secondo me, materializzare i concetti con qualche esempio pratico, con qualche esempio concreto, perché questa della realtà per uno strutturista, un ingegnere strutturista, è sempre una guida sicura e ferma. Qui abbiamo per esempio il caso di una unità di vincolo, in caso in cui la struttura, questa spugina trava sia fatta di materiale con un comportamento disimmetrico a trazione e compressione. Allora, consideriamo questo schema qui, oppure potremmo considerare anche questo, e qui vedete che, per esempio, il fatto che con un comportamento elastico lineare su questi estremi qui ci siano dei carrelli o delle cerniere, non ha influenza, ovvero se la sezione non si parzializza, ovvero non ha un comportamento materiale disimmetrico a trazione e compressione, l'asse della mia trave è sempre coincidente con l'asse neutro della mia trave è sempre coincidente con l'asse baricentrico della trave, quindi non c'è nessuna azione orizzontale che ci sia un carrello oppure una cerniera. Sicuramente è differente se la sezione si parzializza, perché, per esempio, in questo caso qui, in cui c'è una trave precompressa, beh, quello non ha il significativo, poi con questo carico qui, a seconda dei vincoli, la parte reagente della mia trave può essere o questa, o questa qui, quindi a seconda dei vincoli che ho qui, ovvero qui, chiaramente la trave è simmetrica aspetto alla mezzeria, le sezioni si parzializzano o in questa maniera qui, in questa maniera qua. Allora, vi invito a riflettere, a pensare se nella condizione B, in questo punto qua, è presente un carrello, su questo estremo, quindi chiaramente un carrello anche dall'altra parte, oppure è presente una cerniera. La stessa cosa qui, questa è sempre la stessa trave, solo che qui dovete pensare se c'è un carrello oppure una cerniera. Se avete riflettuto anche pochi secondi, potete pensare subito, avete subito individuato il tipo di vincoli. Allora, la parte retinata è la parte compressa della mia sezione, della mia trave, delle varie sezioni della mia trave, quindi la parte reagente. Giustamente in mezzeria il momento è negativo, quindi in entrambi i casi qua c'è una parzializzazione, cioè il momento è negativo, le trazioni sono superiori. Se andiamo in campata, sia da una parte che dall'altra, giustamente il momento è positivo e quindi qui qua sotto c'è la parzializzazione. Però vedete che se mi sposto agli estremi, in questo caso qui la parzializzazione prosegue essenzialmente fino praticamente ai vincoli. Mentre da questa parte qui la parzializzazione retrocede, a un certo punto la sezione è tutta compressa. In questo caso qui è presente una cerniera che con la sua reazione orizzontale dà una compressione che fa diminuire la parzializzazione della sezione. Qui invece la parzializzazione continua perché fino alla fine, chiaramente sulla cerniera del carrello è un momento teoricamente nullo, però appena prima il momento è positivo, quindi la sezione è parzializzata. Questa è la trave agli estremi dei carrelli, questa è la stessa trave con agli estremi delle cerniere. La trave è identica, i carichi sono differenti, il differente comportamento riguarda il fatto se può svilupparsi un'azione assiale figlia di una reazione orizzontale, che nel caso della cerniera si può sviluppare perché chiaramente la struttura è prestatica. Questo cambiamento qui della parzializzazione dopo si riflette anche sul comportamento complessivo della struttura. Come vedete le due risposte sono queste. La B è la trave con il doppio carrello agli estremi, mentre la curva A è relativa alla trave, la stessa trave però con le cerniere agli estremi. Come vedete nel caso della cerniera l'azione assiale riduce la parzializzazione però rende più fragile la risposta complessiva, reglamentazione e compressione, mentre nell'altro caso la trave è proprio una trave semplicemente inflessa e quindi cerca di sviluppare, può sviluppare anche una certa duttilità. Come vedete anche il riverbero che hanno le condizioni di vincolo nella risposta complessiva della struttura sono significative e come vedete l'interpretazione del comportamento strutturale deve essere coerente in tutti gli aspetti. Se la struttura è semplicemente inflessa è più duttile, se c'è un'azione assiale di compressione la risposta è più rigida perché c'è meno parzializzazione, la struttura è più rigida ma anche sicuramente meno duttile. Vediamo adesso quelle che sono le conseguenze di anonialità, che sono le conseguenze ovvie. La soluzione del problema strutturale può non esistere e se esiste non è unica, non vale più il principio di sopposizione sia negli aspetti intensivi che estensivi. In generale il sistema non è più conservativo quindi se il legame è anorlonomo la risposta strutturale dipende dalla storia di carico. Qui vedete gli aspetti rappresentati. Anche in campo elastico non lineare non esiste più nessuna soluzione ovvero non esiste più un minimo unico dell'energia potenziale totale. Qui è rappresentato il fatto che non vale il principio di sopposizione degli effetti in termini intensivi. Se volete, se mi permettete di un'ultima osservazione un po' più forse sofisticata eccetera, se il problema è non lineare, il problema non è ben posto secondo la definizione data da Adamard. Per questo matematico il problema è ben posto se esiste sempre la soluzione e qui abbiamo visto che in generale se il comportamento non lineare la soluzione può non esistere. Vedete qui il caso, la soluzione non esiste. Poi la soluzione è unica e anche qui abbiamo visto che non è unica in generale con un comportamento lineare. E poi l'ultimo aspetto forse più delicato è che esiste una dipendenza continua dai dati della soluzione. Se per esempio considerate questo caso qui con un materiale fragile, una dipendenza continua dei dati vuol dire che se io aumento di poco questo carico qui, che ha questa soluzione qui, lo metto magari qua, vedete non troppo nessuna soluzione. Quindi non c'è una dipendenza continua dei dati. Se il comportamento è duttile, per esempio, c'è una certa dipendenza continua, abbastanza, superato il punto di sideramento, o comunque un certo valore, una certa soluzione abbastanza vicina, diciamo ragionamente vicina, se c'è un minimo di incrudimento. Se poi ci sono degli aspetti come questo, vedete, aumentare un poco il carico mi produce due soluzioni differenti, o questa, oppure appena dopo questa. Quindi in questo caso qui non c'è dipendenza continua dei dati. Cambio di poco carico ottengo due soluzioni ben distanti. Qui addirittura cambio di poco carico non troppo niente. Quindi in questo senso qua il problema non lineare è un problema che può essere definito complesso, secondo la teoria matematica. I problemi semplici sono quelli definiti come ben posti da Adamarda. La complessità è inevitabilmente legata difficile da maneggiare. Forse l'unico modo per maneggiarla è l'esperienza, ovvero la conoscenza come successivamente noi nel risolvere i vari problemi, nella nostra vita professionale o accademica, affrontiamo di volta in volta problemi differenti. Ecco, ogni nostra analisi parte da un certo bagaglio di conoscenza come questo e su problemi evolutivi più o meno questa conoscenza aumenta di poco perché gran parte delle conoscenze richieste questa è già nella nostra testa. Invece problemi complessi, innovativi, come possono essere quelli non lineari, magari affrontati per la prima volta. La scienza richiesta che questo quadrato qui, questo rettangolo qui, non è nella nostra base di conoscenza e quindi dobbiamo far più fatica e dobbiamo riconoscere questo problema qui in base alla nostra esperienza, alla nostra conoscenza, avendo una volta risolto il problema potremmo pensare di aver acquisito questa conoscenza in più che, come vedete, non è mai quella che sarebbe stata necessaria in maniera comprensiva per risolvere il problema. Questo è un aspetto forse un po' filosofico ma riguarda anche il modo con cui noi, o almeno secondo me e come io, aumento la mia conoscenza nell'affrontare problemi. La complessità poi anche si maneggia con una progressione operativa di livelli di analisi. Prima di tutto l'analisi elastica lineare a teori primordine è essenziale perché per esempio riesce a individuare la rigidezza e iniziare la struttura, quindi comportamenti basici e deformativi tra strutture. Dopodiché l'altro valore, l'altra retta significativa è questo livello qui, questa barra orizzontale che è il carico critico valeriano, quindi i fenomeni di stabilità sono anche significativi perché individuano subito delle caratteristiche essenziali nel comportamento, nel DNA della nostra struttura. Poi si può forse provare a inserire un'analisi elastica non lineare per geometria, a vedere come cambia, qual è l'influenza dei spostamenti, come abbiamo visto sull'equilibrio. E poi passando all'unità di materiale, un'altra stecca utilissima è l'analisi limite, che riguarda un'altra barriera sommontabile della capacità portante alla struttura. Per esempio uno degli aspetti anche interessanti è vedere come questo livello di capacità portante per l'analisi limite si confronta con l'analisi limite del carico critico valeriano. E poi infine abbiamo l'ultimo livello in cui mettiamo insieme l'analisi lineare per materiale e per geometria. Questi passi sono essenziali nella successione per vedere cosa cambia e come vedremo anche a cosa è sensibile. Questi sono richiamati anche poi. Prima di lasciare questa parte qui introduttiva sui vari tipi di normalità, vorrei richiamarvi due aspetti specifici della normalità di materiale. Due situazioni, una buonissima e un'altra che può essere cattivissima. Allora il comportamento, situazione buona è quando abbiamo un comportamento plastico, quindi essenzialmente si può ritenere di essere in questa situazione favorevole quando il materiale ha infinite duttibilità, non esistono fenomeni di stabilità. In questa cosa qui la risposta strutturale è monotona, non decrescente, eventualmente c'è il plateau quando si plasticizza tutto. E il secondo punto interessante è il dominio di resistenza della struttura è convesso. Non abbiamo quindi situazioni di softening. Ripeto, questo si verifica se l'utilità è infinita del materiale di cui compone la struttura e non esistono fenomeni. Ecco, il fatto che il dominio di resistenza sia convesso è una proprietà fortissima. Per tutto il dominio di resistenza, ovvero il dominio di rottura come si dir si voglia, è una superficie chiusa, convessa e può essere definita per qualsiasi struttura. Per esempio, in questo caso qui, se ho questo telaio qui, questa forza orizzontale, questo carico qua verticale, posso avere questa frontiera di resistenza. E in particolare, appunto, l'interno del dominio di resistenza è sopportabile dalla struttura. Se il punto è oltre, è esterno a questo dominio. Questa situazione qui, caratterizzata da questo valore Q e da questo valore F dei due carichi, è una condizione di carico che non è sopportabile, va oltre la capacità portante della struttura. In generale, quindi, noi possiamo anche definire e pensare di partire dalla situazione di una struttura scarica indeformata e, se ci muoviamo, partiamo dall'origine, poi otteniamo punto 1, punto 2 si verifica la crisi strutturale, punto 3, invece, non è raggiungibile. In termini generali, possiamo avere il dominio di rottura come interventare come domini di interazione. Supponiamo di avere due azioni, qualsiasi X1 e X2. Possiamo avere un dominio di interazione nulla, negativo, positivo. Qualcine interazione nulla vuol dire che la X1 non influenza X2 e viceversa. Quando abbiamo un'interazione negativa vuol dire che la presenza di X2 diminuisce la capacità portante rispetto a X1 e viceversa, invece, quando abbiamo interazione positiva, la presenza di X2 aumenta la capacità portante anche rispetto a X1. Abbiamo una definizione di calcolo converso e uno degli aspetti anche significativi che significativi è questo. Prima di tutto possiamo definire un fattore di utilizzo R che, data la situazione di un punto P all'interno al dominio di resistenza, rispetto al punto X che è proiettato sul stesso percorso radiale interseca al dominio di resistenza, vedete che possiamo dire che possiamo calcolarci questo rapporto qui, tra questo segmento qui, OP è il segmento OX e ci misura, ci dà un'idea di quanto siamo vicini o lontani dalla frontiera di rottura. Chiaro che questa è una definizione fa riferimento a un percorso di carico che è radiale, quindi proporzionale come esplicitato qui, in effetti però il percorso di carico potrebbe essere come questo qua sotto o qua in basso, non radiale, magari applicando prima un certo carico Q e poi applicando in un secondo tratto, facendo cresce soltanto la forza F. In questo caso qui il rapporto di utilizzo non è immediatamente definibile. questa è la definizione di dominio, in caso qua sulla sinistra abbiamo un caso di dominio convesso, mentre qua abbiamo una situazione di dominio concavo. E in questo caso qui il riverbero è sul fatto che se io in generale faccio crescere da zero lo stato di solicitazione della mia struttura posso a un certo punto uscire in questa rientranza qui, in questo golfo del dominio non convesso di resistenza e dopo magari posso ritornare ad avere una situazione che è accettabile, sopportabile la struttura. Se però io penso di caricare la struttura attraverso questo percorso qua, la mia struttura collassa qui. Quindi questo fatto che il dominio non sia convesso, ovvero non valgano le imposte di analisi limite, il calcolo plastico usuale, richiede purtroppo debba essere seguita tutta la storia di carico partendo dall'origine fino a un certo punto eventualmente, fino a dove viene incontrata per un certo percorso di carico la frontiera di rottura. Qui abbiamo delle rappresentazioni che non voglio spiegare, che andranno delle interpretazioni su questo percorso radiatico. Per esempio potete trovare qualche indicazione più, qualche osservazione più in caso di domini di resistenza di sezioni CACAP soggette a pressupressione deviata in questo articolo qua, che forse è stato il mio primo articolo scientifico. Lasciando con questa precisazione qui da parte l'analisi nel caso di materiale lastroplastico, quindi con materiale con infinite duttilità e assenza di fenomeni di stabilità, veniamo in cui c'è adesso un problema che è all'opposto, un problema che può essere complicato e che richiede delle tecniche specifiche che vanno sotto il nome di regolarizzazione. Allora, possiamo cominciare a vedere questo esempio qua, questa trave semplicemente appoggiata, questa accampata, poi c'è questo sbalzo qui, la trave caricata in punta da questo carico verticale, qui avete tutte le dimensioni, questo è un trave cemento armato usuale con questi dati qua di armatura. Bene, qui avete chiaramente i comportamenti materiali, per esempio qui c'è rappresentato il comportamento del conglomerato, il calcestruzzo, e potenzialmente abbiamo due leggi, una prima diciamo a parabola rettangolo, mentre questa seconda qui è una legge più, diciamo più realistica, tipo science o surgeon, in cui è presente anche il tratto a trazione e un tratto decrescente di softening a compressione. Ecco, in questi grafici vediamo subito cos'è che non va. Qui abbiamo chiaramente rappresentato in verticale il carico, all'orizzontale c'è l'abbassamento alla punta della nostra mensola, e qui abbiamo differenti discretizzazioni. Questo diagramma qua sulla destra è l'ingrandimento della zona qua dove c'è questo picco qui. quindi questa zona qui la troviamo qua ingrandita. Qui ci sono discretizzazioni differenti, fino a questa la prima, la seconda, la terza, la quarta e così via. Dopo vedremo come sono fatte queste discretizzazioni con elementi B. Qua vedete che man mano che aumenta questa discretizzazione le curve si spostano sempre più in verticale. Con la mesh più fitta non riusciamo a convergere a qualcosa di ben definito. Si schiacciano sempre di più le curve fino tendenzialmente a ritornare qua e su se stesse. E' chiaro che qui ne abbiamo diverse di circa una decina di discretizzazioni e non si arriva a convergenza. E' una situazione in cui chiaramente il risultato, pensate a questo avvarlamento qua, dipende da come è fatta la discretizzazione. Vediamo ancora questo aspetto qui, questa volta però in termini estensivi. Questa è la discretizzazione 1, la 2, la 3, la 4 e la 10 e così via. Vedete la prima con quattro elementi, questo è il carico, qui c'è il carrello, qui c'è la cerniera, la trave giustamente si infletta in questa maniera, la seconda similmente, la terza, la quarta e così via. Però quello che si nota è che, come guardate qua, come vedete qua, fondamentalmente la deformazione del concio della trave si concentra sempre sul concio che è sulla testa del carrello. con un comportamento chiaramente non è fisico perché sembra che soltanto il concio direttamente sopra il carrello sia quello che si deforma. E questo è un caso, qui lasciatemi citare un articolo a cui sono affezionato di una ventina di anni fa, questo è il 97, in cui, in quei tempi là, era, diciamo, un tema abbastanza difficile da affrontare. Adesso è una cosa ben nota, anche ci sono, diciamo, affidabili che superano questo aspetto qua. Il problema è questo, fino a che il comportamento del materiale nel tratto crescente, fino ad arrivare a parte, diciamo, al picco della capacità portante, non c'è nessun problema. Il problema è il softening, cioè quando c'è, diciamo, decrescente del comportamento. E in questo caso qui quello che si può fare è essenzialmente operare con due strategie. La prima strategia è questa. Essenzialmente si impone che qualsiasi sia la dimensione dell'elemento finito, l'energia che è coinvolta in questa magazzinata, utilizzata in questo elemento finito, sia uguale ad un'energia di riferimento fissata su uno specimen, su un campione che è rappresentativo. Quindi questa energia qui diventa una costante e, in funzione di quanto è grande, per esempio, nel caso di quanto è lungo l'elemento di trave, l'energia viene comunque ricondotta sempre a questo valore qua. Si normalizza comunque l'energia. E questo viene fatto considerando delle opportune energie, quindi si dice, sono noti come energie di frattura o energie nel tratto di softening, specifiche per ogni materiale, definite, come si definisce il modulo di elasticità iniziale, modulo di elasticità tangente, eccetera, per i vari materiali. E, essenzialmente, quello che si fa è considerare una situazione di riferimento. Tipicamente, parlando di travi, si considera un'area unitaria. Stiamo parlando di gamma sforzo deformazione, sforzo allungamento. In particolare, viene definito questo lo sforzo, questo l'allungamento con riferimento alla deformazione di questo provino di riferimento. In questa maniera qui, quindi, si considera in particolare l'energia di formazione questa, immagazzinata nel mio provino di riferimento quando si allunga, e alla stessa energia viene comunque riportata una struttura in esame, quindi l'allungamento finito lungo quanto si vuole, con una trasformazione molto semplice che è rappresentata qua sotto. Vuol dire quindi che, finché siamo nel tratto, diciamo, di riferimento, nel tratto, diciamo, di risposta fino al picco, i due comportamenti restano uguali. Invece, nel tratto di softening, nella generica discretizzazione con l'alimento lungo L, questa area qui viene assunto uguale a questa, quella del campione di riferimento. E quindi, in maniera fittizia, si trasforma la parte finale, il punto a cui può finire questo legame costitutivo, con questa semplice trasformazione qua. Questo è un trucco. Essenzialmente si fa, si prende un campione di riferimento, in cui è immagazzinata nel tratto di softening una certa energia, e si dice che, in qualsiasi elemento lungo comunque, si abbia la capacità di immagazzinare sempre e solamente la stessa quantità di energia. tanto questo trucco, ce n'è un altro, che essenzialmente è, diciamo, se volete, una forma, mentre prima era qualcosa legato all'energia, per ritenere che, nell'elemento con dimensioni differenti rispetto al provino di riferimento, ci sia comunque sempre immagazzinata la stessa energia nel tratto di softening. Poi, invece, la cosa che si fa è questa. Si considera una misura della deformazione non locale, ovvero, si considera che ci sia una certa funzione di peso che pesa non soltanto la deformazione nel punto che sto considerando, il punto di gas che sto considerando, ma anche un po' prima, un po' dopo, con un certo legame, fino a una certa distanza dalla sezione che io considero. Quindi, in una certa maniera, si pesa comunque la deformazione che ho in un punto della mia discretizzazione, qui stiamo parlando di elementi monodimensionali come possono essere le travi, ma potrebbero essere stese chiaramente più dimensioni, e in questa maniera qui si elimina la dipendenza della discretizzazione. chiaramente c'è una parte di, inutile dirlo, di machincenio numerico, di trucco numerico, no? Viene definita non la deformazione quella elastica puntuale, ma una deformazione mediata che è data da una pesatura in questa maniera qui. Questa funzione qua è una funzione tipicamente gaussiana, un'altra funzione di peso qualsiasi, no? e questa media qui, questo peso qua, viene fatta a una distanza prima e dopo la sezione che sto considerando, una sezione lambda, che può essere definita in tante maniere. Questa è una forma chiaramente anche empirica di modellare il comportamento di software del materiale. e tipicamente questa distanza qua, da cui misurare prima e dopo la deformazione, pesandola in questa maniera qui, in caso delle travi può essere, per esempio, correlata all'altezza stessa della trave. L'altezza stessa della trave è qualcosa di meccanicamente ben definita, è una cosa che entra in gioco, per esempio, è una definizione della cerniera plastica. Normalmente lo sviluppo della cerniera plastica coinvolge una lezione, un tratto di trave che più o meno è pari a due volte l'altezza della trave stessa. Quindi vuol dire che nella sezione in cui ho, nel caso della cerniera plastica, proprio la completa plasticizzazione, prima e dopo, per un'altezza H, quindi complessivamente 2H, ho delle deformazioni plastiche. Come vedete la parte, diciamo, questa parte qua di definizione analitica, matematica, di questo, diciamo, trucco, oppure modo di approssimare il comportamento non meccanico, si rifà comunque sempre a qualcosa di meccanicamente ben definito e significativo, l'altezza di una trave. È per questo che, sin dall'inizio di questa lezione qua, ho sempre richiamato sull'importanza di sviluppare marchi ingegni analitici, equazioni, questa e quella, però dopo sempre ricondursi a qualcosa che sia fisicamente e meccanicamente significativo. Ripeto, nel caso di una trave, la zona di processo, chiamatela come volete, dove si plasticizzano le fibre, dove si sviluppa la cerniera plastica, vedete, è più o meno una zona che ha un'estensione pari tra H2H. E qui è qualcosa di simile. Si pesa deformazione prima e dopo. E qua vedete il risultato con questa regolarizzazione, con questa modalità non locale di misura deformazione. qui abbiamo lo stesso diagramma di prima, qui vedete lo stesso ingrandimento, dove vedete che chiaramente, a parte la prima mesh, la prima discretizzazione, le altre si accumulano intorno a un comportamento medio o asintotico, ben definito. e questo è anche il conflonto tra quello che è il comportamento estensivo del modello discretizzato. Qui vedete l'aspetto di localizzazione, in cui in una parte più scura vedete come la zona di processo si concentra sempre di più, in teoria finisce ad avere una lunghezza nulla, cosa che chiaramente non è fisico, mentre in questo caso qui, con quel processo di regolarizzazione di misura non locale della deformazione, al crescere della discretizzazione, comunque la zona di processo, quella che potrebbe essere la cenera plastica con softening eccetera così via, risulta comunque ben definita e converge a una regione precisa e opportunamente diffusa della trave. Vi faccio notare anche, se questi erano quelli che prima erano risultati con il legame con la parabola completa, quindi tipo Sargino-Science, cosa succede? Se usate una parabola rettangolo in cui c'è chiaramente un flatto plastico e dopo una d'utilità comunque limitata. Ecco qui un aspetto da una parte ovvio e da una parte forse non così ovvio. Il fatto che ci sia un legame parabola rettangolo per il calcestruzzo, quindi una deformazione ultima pari per esempio al 3,5 per mille a compressione e dopo di che nulla, è in effetti come se ci fosse un softening brutale in cui dopo il 3,5 per mille a compressione non c'è più nulla. E qui vedete il riflesso che c'è relativamente alla localizzazione di questo aspetto qui. E qui sono mesi differenti e vedete che in questo caso qui, mentre il tratto iniziale, il plateau resta costante, quello che non converge a qualcosa di fisso è il termine della d'utilità a livello complessivo della trave. Vedete che la d'utilità si riduce sempre di più, in teoria si maneggerebbe tutto quanto questa parte qui, mentre con il legame regolarizzato in forma non locale vedete che a un certo punto si stabilizza comunque la d'utilità della trave nel suo complesso anche con il legame parabola rettangolo e si arriva a una soluzione, diciamo, con la convergenza del quadro intensivo anche definita. Questo è un aspetto anche sottile, il fatto che ci sia una parabola rettangolo, comunque a un certo punto la plasticizzazione termina, il plateau termina, quindi complessivamente il comportamento è... Ecco, adesso abbiamo una parte che è dovuta dopo... vorremmo anche un po' velocemente su questa parte qui c'è una quindicina di slide che dopo potete guardarvi con calma. Però è importante perché per completezza bisogna anche parlare di questi aspetti qua. Prima di tutto, in questo quadro qui è rappresentato come è strutturato il problema strutturale, è a parte di dati che riguarda il domenio strutturale, cioè la struttura come è fatta, condizione contorno, in particolare il modello delle azioni. Poi c'è questa fase qui centrale di calcolo, che nel nostro caso sarà non lineare, ci sono risultati che non sono una mole in forme di numeri e di dati, sono quantità strutturate, quindi ci sono inizialmente quantità globali e integrali, poi quantità locali e puntuali, e ci sono quindi quantità primarie e quantità secondarie. Ecco, è importante avere in testa questa strutturazione dei dati, perché serve anche nel valutare e nel capire cosa si può ottenere dall'analisi non lineare. Qui sono riassunti i dati che servono a definire la struttura, la sua configurazione e le sue condizioni al contorno. Qui ci sono alcuni diagrammi che fanno vedere, alcuni schemi che fanno vedere le componenti essenziali di un problema strutturale, quindi in particolare l'equilibrio, le sue equazioni indefinite al contorno, gli aspetti relativi alla congruenza interna e al contorno, quindi rispetto ai vincoli, e il legame costitutivo qui è rappresentato quello più semplice. E' importante, come dicevo prima, avere in testa la gerarchia dei risultati. I risultati sono informazioni strutturate che partono da aspetti più generali, qualitativi e quantitativi e scendono poi nel dettaglio. Se tornate, per esempio, prima a pensare a quella trave semplicemente appoggiata con il problema di localizzazione o di regolarizzazione, ecco per esempio l'aspetto qualitativo che abbiamo visto subito è stato questo. Quando abbiamo tracciato la deformata della struttura, nel caso con la localizzazione, vedete che la zona di processo, cioè la sezione che era coinvolta nel comportamento non lineare, convergeva a un concio di trave di spessore tendenzialmente infinitesimo, cosa che fisicamente e meccanicamente non corretta. E questo è un aspetto qualitativo, immediato, che deve essere subito controllato e che fa dire che la soluzione senza la regolarizzazione non va, non è meccanicamente significativa. Quindi questo è un aspetto su cui vi prego di prestare attenzione, ci sono aspetti qualitativi essenziali e dopodiché anche quantitativi globali e via via tutti gli altri. È inutile cercare di ragionare su aspetti che stanno sotto se quelli principali, superiori, gerarchicamente superiori, non sono corretti. Qui ci sono essenzialmente richiami su come vengono ricavate le caratteristiche con un'ottica discretizzazione agli spostamenti virtuali e come sono ricavate le caratteristiche della discretizzazione del problema discretizzato, sia in termini di matrici di esigenza che di vettori carichi equivalenti. Non si può usare il principio virtuale o quello del problema di stazionalità di energia potenziale totale. E quello che è significativo avere sempre in testa quando si ragiona su un problema numerico da valutare è che tra la struttura reale qui rappresentata e la struttura discretizzata quello che è equivalente è la variazione di energia potenziale totale o la variazione dei lavori virtuali. Quindi in generale esistono sempre discrepanze sulle quantità puntuali. In genere equilibrio e congruenza sono approssimati nella situazione discretizzata. L'equivalenza è in termini globali o di lavoro di energia tra struttura reale e la struttura discretizzata. Vi ricordo che dobbiamo ricordarci che il requisito essenziale per avere una validità di una soluzione numerica è che la nostra discretizzazione possa rappresentare, quindi il nostro elemento finito, i nostri elementi finiti possano rappresentare moti rigidi e stati di sforzo costante. Questa è la cosiddetta completezza della discretizzazione numerica che vuol dire che comunque sia, se abbiamo queste due possibilità, riusciamo a rappresentare e approssimare una qualsiasi distribuzione di sforzo all'interno della nostra struttura magari lungo una certa direzione s con una funzione a gradini. Questa è un'approssimazione, una funzione continua comunque sia, con una funzione a grandini è sicuramente un'approssimazione a volte anche cruda, ma è quella che è essenziale e sufficiente perché si possa ottenere all'infittire della mesh una soluzione che sia accettabile e tendenzialmente convergente alla soluzione del problema quello reale. Ci sono aspetti relativi a campi di spostamenti, quali componenti di polinomi che sono utilizzati nelle funzioni di forma devono essere utilizzati, ma non voglio entrare nel dettaglio. Vi ripeto, dopo queste slide qua le avrete a disposizione, potete anche riguardarle, quali sono anche tutti aspetti che sono anche più letteratamente sviluppati nei sacri testi sugli elementi definiti. Non voglio parlare della conformità, che è una quantità caratteristica accessoria per gli elementi definiti, quindi non è necessaria se arrivi alla soluzione corretta del problema strutturale, però voglio vedere con voi, anche voglio ripercorrere con voi la formazione dell'elemento finito, questo è sempre CST, l'elemento finito è stato piano in sforzo a tre gradi libertà, quindi campi di spostamenti lineari, come sono espressi qua. Questa è la matrice delle funzioni di forma da cui si ottiene la matrice che rappresenta la deformazione, l'interpolazione e poi il campo di sforzi conseguenti. Ecco, per esempio, anche qui riflettere su come è formulato l'elemento finito è sempre interessante e significativo nel caso di analisi non lineare, perché se è vero che, se consideriamo il CST, gli spostamenti sono interpolati in maniera lineare, le deformazioni quindi sono costanti essendo le derivate degli spostamenti, ed è vero che in generale, quindi anche per esempio questo stato di sforzo è costante all'interno dell'elemento finito, quindi in generale in una struttura a rastra io ho una rappresentazione, uno stato di sforzo che in generale è continuo, regolare, con una funzione a gradini e se è vero che in campo rastrico lineare questa è una rappresentazione cruda, estremamente cruda, è anche vero che però ci sono delle situazioni come per esempio in caso di strutture in cemento armato oppure in muratura in cui non è vero che il campo deformativo e quindi anche il campo di sforzi sia continuo, perché per esempio se ci sono delle strutture che sono presenti con fratturazioni, ci sono delle discontinuità e anche delle zone in cui il comportamento è non regolare come magari potrebbe essere previsto da elementi finiti più di ordine superiore. Quindi usare per esempio elementi finiti con funzioni di forma magari povere, soltanto lineare, quindi per esempio con rappresentazione lo stato di sforzo, di riformazione costante, può essere più vicino alla realtà meccanica di una struttura che si frattura, che si fessura, che magari usare per esempio elementi come serendipidi 8 nodi o agrangiari 9 nodi che sono molto regolari, molto continui, però troppo continui per le situazioni in cui ci sono le fessurazioni. Alla fine attraverso, come sapete, attraverso il principio dei lavori virtuali o stazionalità di potenziale totale, si arriva alla formulazione della relazione algebrica tra spostamenti e carichi e dopo si ottiene quindi quella che è la matrice di rigidezza della struttura che moltiplicata per lo spostamento, il mettore dei spostamenti, da equilibria il mettore dei carichi. Questi sono i passaggi con cui si arriva a ricavare l'equazione della matrice di rigidezza e del vettore dei carichi. La stessa cosa si può fare con un esercizio attraverso la stazionalità dell'energia potenziale totale. Ecco, alla fine di questa scorsa di come si arriva agli elementi finiti, si ritorna uno dei punti forti che ho ripetuto più volte in questa lezione qua, ovvero si arriva in fondo che bisogna conoscere e apprendere come funziona il modello, il coci di calcolo oppure come funziona il problema che si ha da risolvere. Quindi per esempio è essenziale avere un'idea delle caratteristiche, per esempio la caratteristica più semplice, più elementare per un elemento finito e calcolarne i modi propri. Vedete che per esempio per un iso P4 ci sono tre moti rigidi, due traslazioni e una rotazione, poi ci sono dei moti deformativi con comportamento a taglio o a flessione e poi dei comportamenti di puro stretching o di estensione come questa. prima di utilizzare un elemento finito è sempre necessario avere una idea di come si comporta l'elemento finito anche perché questi modi qui dipendono, questa risposta qui dipende dal tipo di integrazione gaussiana che si usa, che può essere completa, selettiva oppure ridotta e con tutte le conseguenze vanno anche sempre pensati, sviluppati dei test, dei benchmark come sono questi, in cui a seconda di come si sono applicati i carichi si ottengono risultati più o meno discrepanti, più o meno differenti e questa parte qui è una cosa di preparazione all'utilizzo del software e della conoscenza dei singoli elementi che va fatta sempre. Tutti i software hanno loro manuali di verifica con benchmark e altre che devono essere fatti prima di affrontare un problema. Ricavare la matrice non è soltanto un esercizio puramente algebrico perché la matrice di rigidezza rigidezza rappresenta il comportamento strutturale della costruzione che stiamo analizzando. Per esempio questa immagine qui fa riferimento a un problema tipico che tormenta tutti gli analisti numerici sia in campo lineare che non lineare. Ecco, verso volentieri viene fuori un messaggio con scritto una matrice di rigidezza singolare, che vuol dire che la matrice di rigidezza non può essere invertita e quindi non si possono risolvere le equazioni di equilibrio. Questo avviene in generale perché un termine diagonale della matrice di rigidezza nel sviluppo del processo risolutivo diventa nullo, che vuol dire che in corrispondenza di quel grado di libertà è come se non ci fosse rigidezza. Quindi in corrispondenza di quel grado di libertà, il grado di libertà può essere valore qualsiasi perché tanto non è contrastato da nessuna rigidezza. Ecco, questo disegno fa riferimento a questo aspetto qua. Vedete questa struttura, queste strutture qui avranno, non so, 5.000, 10.000 gradi di libertà. No, su un telai nello spazio, quindi ogni nodo segue la libertà, ci saranno 5-10.000 gradi di libertà. La singolarità della matrice può riguardare il fatto che un nodo qua dentro, su questo elemento qua, per esempio, non è vincolato a nessuna rigidezza. Alla stessa maniera, la singolarità può essere legata al fatto che un nodo in questa colonna qui non ha nessuna rigidezza che si oppone allo stesso spostamento, la stessa cosa qui. È chiaro che dal punto di vista numerico c'è sempre un termine pivotale, sulla diagonale della matrice di rigidezza, che è zero, però è chiaro che il riflesso, il riverbero dal punto di vista strutturale è ben differente. Qui vuol dire che un nodo di questa astina qui è labile, qui vuol dire che un nodo di questa colonna qui è labile, qui vuol dire che un nodo su questa grossa colonna di questa struttura è labile. Quindi il riverbero strutturale sulla struttura della labilità di una matrice di rigidezza, dal punto di vista numerico è lo stesso, è sempre un numero che è zero, un termine rigidezza che è zero, però è chiaro che la rigidezza è differente se consideriamo questa astina qui, questa colonna, questa grossa colonna qua. Quindi anche dal punto di vista strutturale, incontrare una labilità di questo tipo qua ha riflessi differenti, vuol dire che un'asta su 10.000, la piccola asta è collassata, vuol dire che una colonna su 100 è collassata, oppure che effettivamente una delle 4-5 colonne significative che per l'edificio ha collassato. Il riverbero è differente, l'analista deve capire quando avviene una singolarità di questo tipo qua che cosa comporta, perché per esempio se io penso a un grattacielo e dopo magari la labilità è legata a un balcone di tutto il grattacielo, è chiaro sì, non è una labilità, però ha un riflesso sulla struttura che è nullo. Questo è significativo perché vuol dire interpretare quello che è un fallimento numerico in termini di fallimento strutturale. Alcuni software, questo è sempre Strauss, permettono per esempio, qui in particolare vedete, di procedere nelle analisi soppremendo la singolarità, che vuol dire che anche se il coce di calcolo trova a un certo punto un pivot della matrice di rigidezza, un termine di matrice di rigidezza diagonale che è zero, gli viene fittiziamente posto con un valore non zero e l'analisi continua. Questo per esempio permette di procedere anche nel caso prima del balcone sul grattacielo, il coce di calcolo tiene conto che il balcone è labile, però procede ad analizzare tutto il resto della struttura. E questo è un bene, però mettere automaticamente la soppressione delle singolarità è pericoloso, perché vuol dire che l'analisi strutturale vede che il coce di calcolo continua ad andare avanti e non si rende conto che magari le singolarità soppresse fettiziamente sono tante e riguardano effettivamente una condizione di mancanza di equilibrio importante magari per tutto l'edificio, per tutta la struttura. Vedete quindi come quello che è un aspetto puramente numerico, cioè un pivot, un termine diagonale della matrice di rigidezza, ovvero un auto valore della matrice di rigidezza che è nullo, è anche pesato, interpretato in termini strutturali, può essere riferito all'abilità di un balcone, magari può essere messa verbale, l'analisi può andare avanti oppure può essere una cosa più importante di cui tener conto e che effettivamente segna il collasso della struttura. Bene, adesso stiamo entrando nella fase in cui dobbiamo costruirci la soluzione. Ecco questo qui è uno dei diagrammi forse più importanti, un punto cruciale in questa lezione qua, che rappresenta il mio modo di vedere di come sviluppare l'analisi strutturale. Prima di tutto è chiaro che per semplificare le cose possiamo pensare di avere in testa di dover trovare un valore, ad esempio un valore numerico, chiaro che questo è uno schema, una semplificazione in generale, la risoluzione del problema strutturale coinvolge riconoscere, conoscere, valutare tanti parametri, tanti aspetti. Abbiamo visto prima valutare, trovare quello che è il comportamento qualitativo, poi quello quantitativo, tutte le risposte da quelle che riguardano quantità primaria, secondaria e così via. Supponiamo però per momento, per focalizzare l'attenzione, di calcolare solo questo valore qua, A. Qui in orizzontale invece è portato, sono rappresentate tutte le modellazioni successive che noi facciamo. Questo vuol dire subito che la regola zero per sviluppare un'analisi strutturale è che bisogna comprendere che questo processo è un processo evolutivo in cui si esplora la struttura e il suo comportamento. questo è un aspetto essenziale, deve pensare di impostare un processo in cui si accumulano conoscenze su come funziona la struttura. Il punto di partenza, punto zero, può essere chiaramente partire da valutazioni analitiche, come quelle che si possono trovare nel manuale o nei prontuari, magari facendo riferimento anche schemi molto semplificati che sono solo una parvenza del nostro problema reale. Però questo è un punto essenziale in cui noi arriviamo ad avere una delimitazione con dei valori superiori e inferiori di quello che noi ci otteniamo. ho detto che non è detto che la soluzione stia sempre qua dentro in questo intervallo che si è inizialmente individuato, però questa è una guida per cosa ci si aspetta. Ed è chiaro che ogni fuoriuscita da questa guida qui vuol dire che è successo qualcosa che nel modello analitico inizialmente non era tenuto in conto e questa fuoriuscita deve essere qualcosa che ci spinge a capire cos'è che è cambiato rispetto all'ipotesi alla base delle valutazioni analitiche. Si deve quindi cominciare a avere in testa l'idea che la soluzione non è unica, non è un valore unico ben preciso. In generale un problema complesso la risposta strutturale, il parametro che si vuole calcolare, si riesce soltanto a delimitarlo con un intervallo, con dei valori superiori e inferiori. Questo è un aspetto essenziale perché solo nei problemi semplici, veramente semplici, esiste la soluzione con un valore numerico ben preciso. Se prima pensiamo ad attività delle travi è chiaro che se io calcolo l'abbassamento di una trave in un sistema molto semplice, lì il valore è unico. Però in generale è un problema reale, c'è una certa banda di incertezza, di indeterminabilità della soluzione. Bene, dopo questa soluzione qui analitica di partenza, in generale si sviluppa la generica modellazione K. Questa modellazione qua ci porta ad avere il risultato A con K. Questa sola modellazione qua di per sé non è sufficiente per garantirci di aver trovato la soluzione, diciamo non quella esatta, diciamo una soluzione corretta, realistica, utilizzabile. Chiaro che c'è confronto con la soluzione analitica di partenza, con una banda di valutazione del valore da calcolare, però questa non è in generale sufficiente. È sempre necessario considerare un modello successivo, modello KB1, in genere più raffinato. Man mano che ci spostiamo, con questo asse qui, si ritiene di aver usato per esempio una discretizzazione più raffinata, aver introdotto degli aspetti per un comportamento materiale via via più realistici. Ecco, a questo punto qui si può innestare subito un processo di valutazione della sensibilità della soluzione. Passando da questo modello a questo, noi abbiamo introdotto qualcosa di differente. Abbiamo raffinato la mesh oppure abbiamo introdotto per esempio un comportamento materiale più complesso, più realistico e adesso vediamo attraverso questa valutazione qua, quindi la differenza tra il valore calcolato con modello KB1 più raffinato, il modello K che ci ha fornito il valore A con K, vediamo di quanto è cambiata la soluzione. E se la soluzione è cambiata di poco, vuol dire che più o meno ci possiamo ritenere assestati su un valore corretto finale della soluzione. Se invece è cambiato di tanto, vuol dire che l'aspetto che noi abbiamo introdotto, per esempio raffinare la mesh, vuol dire che è importante, quindi vuol dire che effettivamente era necessario discretizzare maggiormente la nostra struttura. Oppure se per esempio abbiamo inserito, se qui avevamo un comportamento materiale olonomo e qui abbiamo introdotto un comportamento materiale anolonomo e la variazione del risultato è stato notevole, dire che questo cambiamento era necessario. Quindi era necessario considerare per questa struttura un comportamento materiale anolonomo. Chiaro che questo valore qui, questa differenza qui in valore assoluto non ha senso. Bisogna sempre normalizzarla rispetto a un valore di riferimento e calcolare una variazione percentuale. In genere le variazioni inferiori al 5%, 1, 2, 3, 5% nel campo civile, le strutture civili sono diciamo accettabili, quindi vuol dire che siamo più o meno assestati sulla soluzione corretta, altrimenti bisogna rifare la modellazione e introdurre un passo successivo con una modellazione ancora più raffinata. Questa curva qui verde rappresenta in generale quindi come si sviluppano, come si tiene conto, si ne traccia, all'aumentare delle modellazioni, al raffinare della modellazione del risultato e c'è la speranza, come vedete qua, più o meno di arrivare a un asintoto che ci rassicura sull'esistenza di una soluzione corretta, realistica. Ci sono che non è sempre evidenziato dalle persone che dopo realisticamente e realmente fanno le analisi e questo. Bisogna prestare attenzione che al crescere della raffinatezza del modello, la complicazione e complessità del modello, in certi casi, come per esempio in questa curva qui blu, la soluzione può divergere e può divergere per errori numerici. Quindi vuol dire che nelle computazioni sono così tante, così complesse, così numerose che alla fine gli errori di troncamenti e arrotondamenta fanno esplodere la soluzione, la fanno divergere. Quindi in generale non è utile aumentare la complessità del modello oltre un certo limite. Bisogna seguire questi passi qui partire da valutazioni analitiche molto semplici, anche fatte con calcolatrici o con schemi veramente elementari e poi sviluppare questo processo qua in successione dei risultati, tenendo sotto controllo sia la limitazione che la sensibilità della soluzione. Un altro aspetto forse ancora più delicato e più sudolo è questo. Per essere sicuri di essere arrivati a una soluzione corretta, affidabile e realistica, è necessario procedere con una regola che riguarda la ridondanza delle analisi, ovvero sviluppare più analisi, come se noi dovessimo vedere il problema con più punti di vista e per essere sicuri di essere arrivati alla soluzione. Ecco l'idea di esplorare il comportamento strutturale e sviluppare passi successivi per capire e comprendere il comportamento strutturale, per esempio è quello che è rappresentato qui, quello che abbiamo già visto prima, quindi per esempio la necessità di sviluppare analisi elastiche lineari all'inizio, anche se il problema è chiaramente non lineare, e poi procedere con tutti questi livelli qui, valutare cariche critici euloriani, sviluppare analisi limite per esempio. Queste sono delle analisi anche per certi diversi molto semplici che servono comunque a inquadrare la risposta strutturale, perché vedete l'analisi elastica lineare ci fornisce questa retta. Carico critico euloriano ci fornisce questa barriera insormontabile, come l'analisi limite ci fornisce quest'altra barriera insormontabile. Quindi già questo serve a delimitare dove si opererà, dove si svilupperà la risposta strutturale e questa è una conoscenza che è essenziale. Poi nell'esplorazione della struttura e del comportamento strutturale entra in gioco anche inevitabilmente l'esperienza dell'analisi strutturale. Quindi per esempio permettetemi di farvi vedere alcune cose che riguardano la mia esperienza, un paio di immagini che rappresentano la mia esperienza. Nell'83, quando ero studente al Politecnico in Milano, io sviluppavo i primi programmi in Fortran con le schede e la perforatrice. Quindi la mia esperienza, anche la valutazione dei coci di calcolo eccetera e quant'altro, anche la restituzione per esempio grafica, le mappe di colore eccetera è, a riferimento anche a questa esperienza qua, quando non esisteva per esempio chiaramente Windows o neanche DOS, era una cosa proprio elementare, anche la difficoltà di ottenere risultati e l'accuratezza con cui si sparava un colpo di analisi, che magari richiedeva un paio d'ore di attesa in forma di tabulato numerico e così via, è una cosa essenziale. Quindi per esempio questo è stato un periodo in cui io, con tutti i miei limiti, ho capito quanta accuratezza, quanta preparazione ci vuole nel fare partire un analisi. Quindi non è uno sparo nel buio un'analisi strutturale, deve essere come un esperimento anche ben pensato. Qui siamo dieci anni dopo. Nel 93 io sviluppavo coci di calcolo lineare e non lineare e per esempio uno degli aspetti delicati era la memorizzazione in forma skyline della matrice di rigidezza in cui sicuramente si sfrutta la simmetria della matrice di rigidezza ma poi si tiene anche conto che la matrice di rigidezza non è piena ma è sparsa quindi ha dei numeri non nulli, dei valori non nulli di rigidezza in certe ben più precise posizioni e questo è essenziale a quei tempi lì per poter risolvere problemi con grande dimensione. A giorno d'oggi questo fa quasi tenerezza. L'ultima immagine che voglio farvi vedere è questa qui del 93, cioè del 2003. Qui si vede la discretizzazione di un pezzo di una struttura famosa. Queste qui sono le due gambe e l'impalcato tricellulare del ponte di Messina come era calcolato più o meno nel 92, quindi quando io memorizzavo la matrice di rigidezza in forma skyline e poi come è stato ripreso in mano questo progetto nel 2003 quando per 3-4 anni sono stato incaricato di fare analisi strutturali su questo ponte di Messina. Ecco, vedete anche qui per esempio nel 92 questa è una schermata, qui vedete anche il tubo catodico con l'incurvatura dello schermo. Questa è una fotografia fatta con la reflex perché a quei tempi lì non esistevano le stampanti a colori. Si fotografava lo schermo, si stampava, dopo la fotografia la si incollava sulla relazione di calcolo. Vedete anche qui per esempio questa attraverso qui sotto le due gambe di questo ponte lungo 3 km erano alti tipo 20-25 metri. Vedete e qui la discretizzazione è fatta con quattro elementi soltanto sull'altezza quindi questa è una discretizzazione veramente rada che fa tenerezza al giorno d'oggi. Eppure a quei tempi lì nel 92 si calcolava un ponte di 3 km con questa discretizzazione. Questo è importante perché alle volte noi partiamo subito, oppure magari sono poco esperti partono subito con modellazioni con milioni di elementi finiti e come dicevo prima questo non solo non è necessario ma può essere anche pericoloso perché vengono introdotti errori numerici che non dovrebbero essere presenti e per esempio con modelli più semplici con discretizzazioni più rade sono comunque evitabili. Volevo tornare un attimo sull'aspetto della ridondanza che è l'ultima regola che abbiamo visto prima. La ridondanza vuol dire che il problema viene dato in pasto da risolvere a uno o più solutori che indipendentemente forniscono dei risultati. Dopodiché c'è un sistema che potrebbe essere tipicamente un analista strutturale serio, scusate, senior, e decide e valuta e pesa le varie soluzioni e alla fine fornisce il risultato. Ecco questo è un processo che è l'unico che può garantire l'assenza di errori legati all'errore umano. che vuol dire che io faccio risolvere lo stesso problema a due ingegneri strutturisti dopodiché li considero di peso e ottengo quello che ritengo essere il risultato. E' importante che la soluzione sia assolutamente indipendente e l'indipendenza vuol dire che non solo le persone devono essere differenti e devono sviluppare le valutazioni numeriche in maniera indipendente senza chiaramente parlarsi e confrontarsi sul risultato. Ma per esempio anche i solutori, quindi i coci di calcolo devono essere differenti, anche le metodologie devono essere differenti e così via. Questo è per garantire un'assoluta indipendenza del risultato. E' un po' come quando si fa lo scritto di tecnico di soluzione, è chiaro che se le persone copiano tra di loro, i studenti copianti di loro, poi alla fine il risultato probabilmente può essere anche giusto. Però se anche il risultato è lo stesso, se sono copiati tra di loro i risultati non è che sia particolarmente significativo questa cosa. Questa della ridondanza è un problema che, diciamo, essendo legata all'errore umano o a comportamenti estremamente complessi e difficili da predire, non sempre viene messa in evidenza. E alle volte è veramente problematica. In letteratura questo è uno degli esempi che viene presentato e riguarda il caso di una semplice trave in alluminio con queste dimensioni qua, soggetta a una certa pressione, un certo impulso di pressione e qua il problema è dinamico, quindi c'è questa botta di pressione dopodiché questa trave oscilla e qui ci sono le risposte temporali, nel tempo, lo spostamento della mezzeria e tutte queste sigle qua sono tutte una decina di soluzioni indipendenti sviluppate da analisi strutturali differenti qui erano società di ingegneria differenti che usavano coci di calcolo differenti. E come vedete che fino a un certo punto, magari fino a questa prima gobba qui tutte le soluzioni sono più o meno coerenti tra di loro dopodiché le soluzioni si sfarfallano e oggettivamente ce ne sono diverse che si attestano verso dei valori di spostamento finale quando è finita la storia dinamica con valori positivi ma ce ne sono altre che addirittura invece considerano che lo spostamento finale sia di segno opposto. Quindi qui vedete la cosa è ancora più pesante è una difficoltà di predizione addirittura se alla fine la mia trave resterà verso l'alto o verso il basso ed è un'incertezza mostruosa però si tratta di un valore numerico solo più o meno grande qualche percentuale il 10% 20% qui addirittura è proprio il segno che non si riesce a cogliere e fa riflettere il fatto che ci siano delle curve veramente divise in più fazioni quindi per esempio anche se voi foste il controllore o il decisore che deve decidere se alla fine questa trave resta verso l'alto o verso il basso qui ci sarebbe veramente da riflettere. La difficoltà di predizione secondo me è rappresentata perfettamente da questa immagine qua e da questo film qua ma vi ricordate che questo era un film in cui c'erano tre persone due uomini e una donna che dovevano predire il futuro in modo tale che potesse essere possibile evitare l'accadimento di un evento negativo. ecco qui è un aspetto che è interessante cioè in questo film qua che voi sicuramente vi ricorderete delle tre persone due persone avevano predetto che avveniva l'evento A e una persona, l'altra l'unica donna aveva previsto che avveniva l'evento B qui se uno dovesse pensare che le valutazioni analitiche sono democratiche dovrebbe sicuramente pensare la soluzione giusta è la A non è così sia nel film che nella realtà magari ci sono tre, quattro, cinque solutori che dicono la soluzione A ce n'è uno che dice la soluzione B magari la soluzione giusta è proprio la B questo è un aspetto anche se volete non voglio dirlo filosofico però fa riflettere nei casi reali come è difficile come può essere difficile predire la soluzione e riuscire a uscire da queste crisi numeriche richiede saggezza numerica se volete e anche esperienza l'ultima slide che vi lascio che allarga ancora il tema di riuscire a strutturare in maniera corretta un problema e di risolvere quindi un problema che sia pertinente alla realtà è questo questo cloud di parole che rappresentano tutti gli errori che si possono fare a livello più elevato quindi nella testa dell'analisi strutturale e che possono portare a sbagliare completamente l'impostazione dei problemi quindi la soluzione che si cerca vi sottolineo soltanto alcune parole delle difficoltà di riuscire a impostare correttamente le analisi e se voi farete analisi a un livello elevato probabilmente ritornerete rifletterete e ripenserete a me a questo cloud bene tutto ciò premesso come si dice adesso entriamo a vedere quelli che sono gli schemi risolutivi elementari quindi c'è una prima parte in cui metteremo assieme i mattoni elementari per risolvere un problema non lineare dopodiché vedremo cercheremo di affinare e di approfondire il tema della soluzione più generale in termini non lineare allora se dobbiamo partire a pensare come risolvere un problema strutturale non lineare ripeto dobbiamo avere sempre in testa quello che è il comportamento strutturale in particolare dobbiamo avere in testa quello che è il restoring strutturale ovvero forze di richiamo alla struttura proprio questo è il presupposto per poter sviluppare l'analisi strutturale in particolare non lineare vedete allora si suppone di saper calcolare per qualsiasi spostamento q qui siamo q è uno scalare in questo caso dopo lo estenderemo a un vettore di spostamenti supponiamo di poter calcolare dato q il restoring strutturale quindi la forza di richiamo della struttura la matrice di direzza tangente quella secante facciamo un esempio supponiamo che il restoring strutturale abbia questa forma parabolica molto semplice quindi questa è una forma non lineare il valore massimo è con opportunità di misura 4 quando lo spostamento q con opportunità di misura vale 1 quando lo spostamento q vale 2 il restoring strutturale si azzera quindi il presupposto è questo dati di spostamenti noi sappiamo calcolare in un certo momento come la struttura sviluppa il suo richiamo strutturale in questa maniera supponiamo di saper calcolare la rigidità tangente quindi per esempio la rigidità tangente è chiaramente la derivata del restoring ha questa espressione qui molto semplice e vi faccio notare che ovviamente per q uguale a 1 quando sono qui in sommità il restoring è nullo mentre scusate la tangente la rigidità tangente è nulla mentre il restoring massimo vale 4 è un'opportunità di misura nella stessa maniera ci possiamo calcolare la matrice direzza secante in questa forma e la matrice direzza secante risulta nulla soltanto quando q vale 2 bene proviamo a risolvere il problema strutturale e proviamo proprio a partire con uno schema cosiddetto secante allora questa è l'espressione del restoring che sappiamo calcolare come presupposto questa è la forma della rigidità secante per qualsiasi q che ci sappiamo calcolare ecco qui abbiamo la risposta complessiva sappiamo che il valore massimo e la capacità portante massima è 4 noi supponiamo di applicare un carico che vale 2 qui sono di seguito rappresentate quelle che sono le varie iterazioni allora all'iterazione 0 supponiamo che u con 0 valga 0 quindi inseriamo nella ks che vale 8 risolviamo questo problema qui e otteniamo la risposta u uguale 0,25 seconda iterazione inseriamo questo 0,25 e ci calcoliamo la matrice direzza secante che sappiamo calcolare dopo di che risolviamo il sistema questo qui e otteniamo una nuova stima dell'espostamento che vale 0,28 5,7,1 allora se noi sapessimo già subito il potessimo vedere subito questo intero diagramma cosa che nella realtà in un caso multidimensionale una struttura complessa non si riesce a fare sapremo sicuramente che l'intersezione una delle intersezioni è questa che sta tra 0 e 1 come sapete come abbiamo già visto il problema strutturale non lineare è generalmente più soluzione qui ne mette due perché chiaramente questa è una parabola e vedete che la stima parte la prima stima era chiaramente 0 poi 0,25 0,28,571 se continuiamo a terza iterazione otteniamo un 0,29,167 e poi alla quarta iterazione un 0,29,2 come vedete stiamo convergendo verso un valore che è più o meno 0,29,2 è ovvio che questo problema qua potrebbe essere risolto anche in forma immediata questa è la soluzione di una equazione di secondo ordine però in caso generale questo è fattibile ecco questo è il flow chart da parte dello schema secante come si sviluppano le varie iterazioni questa è la partenza abbiamo segnato un carico supponiamo di partire lo spostamento 0 e otteniamo la matrice di derezza con questa stima dello spostamento da una nuova stima dello spostamento vediamo se c'è un test di convergenza che tipicamente può essere fatto in due termini come vedremo anche dopo un errore sulle forze quindi sul disequilibrio e un errore sugli spostamenti se il test è verificato quindi questi errori percentuali sono sotto una certa tolleranza si ritiene di avere ottenuta una soluzione altrimenti si incrementa il contatore si aggiorna il vettore spostamenti e si continua qui c'è l'aspetto grafico vedete questa è la soluzione iniziale la stima iniziale Q con 0 è 0 questa è la leggezza seccante all'inizio che è quella tangente si ottiene questa soluzione questo è il livello di carico e la soluzione con questo spostamento 1 con 1 prevede che ci sia questo restoring strutturale che è più basso del carico applicato in rosso vedete la differenza tra carico applicato e restoring strutturale da cui noi ci calcoliamo il disequilibrio in percentuale quindi questo è necessario una nuova iterazione questa è la pendenza seccante alla successiva iterazione che passa per l'origine è per questo punto qua calcolato questa è la soluzione Q con 2 ottenuta e vedete che in rosso si riduce quello che è il disequilibrio a questa nuova iterazione il passaggio da questo spostamento a questo è quello che ci permette di valutare l'errore diciamo la variazione sugli spostamenti e quindi in genere per misurare queste due variazioni qua una riguarda quanto è il disequilibrio tipicamente in percentuale tipicamente misurato con riferimento a questo carico applicato l'altro invece riguarda quanto varia lo spostamento tra un'iterazione e quella successiva e abbiamo un paio di diagrammi che fanno vedere aspetti che sono interessanti e peculiari per esempio questo è un caso in cui c'è lo schema sempre seccante questa è la risposta strutturale qui però nell'equazione di equilibrio il termine di carico non è costante ma dipende a sua volta dagli spostamenti questa può essere una situazione ad esempio tipica nelle strutture precompresse in cui il livello di precompressione quindi il carico rappresentante la precompressione dipende dagli spostamenti in particolare ci sono degli avvicinamenti degli estremi dell'asta il carico di precompressione diminuisce ed è comunque che si riesce a tenere in conto trovare la soluzione con diverse iterazioni questa è la prima questa è la seconda e così via invece è un caso in cui non c'è convergenza come vedete chiaramente in caso monidimensionale se non possiamo rappresentare subito la soluzione la cosa è immediata quindi si potrebbe anche evitare di far partire l'algoritmo risolutivo però in generale è un caso multidimensionale in cui non si può rappresentare quindi la risposta a priori non si sa se il carico è superiore o meno la capacità portante alla struttura quello che è interessante è notare che inizialmente il disequilibrio diminuisce inizialmente fino a un minimo e dopo invece ricresce questo vuol dire che man mano che il codice cerca di trovare una soluzione con spostamenti sempre più ampi il disequilibrio aumenta sempre più fino a che a un certo punto è chiara la divergenza del processo risolutivo è anche interessante notare cosa si riesce a ottenere con il metodo secante allora prima di tutto se questo è in generale un percorso di equilibrio nella struttura questo è lo spostamento e questa risposta strutturale beh in un caso generale come abbiamo visto anche nel caso della prima unità geometrica eccetera il percorso di equilibrio può essere anche abbastanza tormentato dopo vedremo quando parleremo di schemi avanzati la cosa diventerà ancora più più chiara più evidente però qui un aspetto che è interessante è questo se noi procediamo con lo schema secante a carico imposto noi seguiamo questa parte di curva poi quando siamo qui a qui saltiamo vi ricordate quando abbiamo visto il problema di la definizione di problema imposto di Adamard e poi possiamo seguire questo e ci fermiamo qui se invece operiamo a spostamento imposto noi riusciamo a seguire questo tratto qui poi da qui saltiamo qua sotto e andiamo avanti a seguire fino qua questo è un aspetto anche interessante che vuol dire in generale che col metodo secante riusciamo a cogliere soltanto alcune parti del percorso di equilibrio in particolare per esempio non riusciamo a cogliere chiaramente quello che è il comportamento analonimo quindi questo è uno schema che può andare bene fondamentalmente per situazioni con carico monotono crescente oppure lo spostamento imposto monotono crescente non si riesce a cogliere in generale lo scarico questo invece è lo schema tangente il flowchial dello schema tangente in cui fondamentalmente si opera in questa maniera qui al solito io parto da una situazione che suppongo nota mi valuto la matrice di rigidezza tangente mi valuto un incremento di spostamento dato dal carico meno restoring qui è diviso la rigidezza tangente in generale sarebbe vedremo dopo che è appena attraverso l'inversione la matrice di rigidezza tangente e quindi mi calcolo lo spostamento un incremento di spostamento lo spostamento della situazione successiva a questo punto posso calcolarmi i restoring e posso fare i test come prima sul disequilibrio che è questo qui in rosso oppure sulla variazione l'incremento di spostamento se positivo mi arresto altrimenti torno indietro e ricomincio il ciclo allora vale la pena ritornare un attimo e vedere meglio i passi iniziali allora questa qui è la risposta strutturale questa è la soluzione di partenza supponiamo che sia zero in questo punto io riesco a calcolare la matrice di rigidezza tangente questo è il livello di carico applicato quindi ottengo in corrispondenza questo spostamento qua se a questo punto valuto il restoring strutturale mi accorgo che il restoring strutturale è soltanto questa parte qui blu e quindi c'è questo disequilibrio tra il carico applicato e il restoring strutturale posso quindi innestare un secondo processo in cui parto un secondo passo da cui parto a questo punto qui mi valuto la nuova rigidezza tangente e trovo questo incremento di carico legato a questo disequilibrio trovo quindi la nuova soluzione con due il restoring è questo il disequilibrio è questo e posso così continuare in passi successivi ecco qui prima di andare avanti possiamo vedere la differenza tra una strategia risolutiva secante e quella tangente ovvero detta anche di Newton-Raphson vedete la cura è sempre la stessa supponiamo quella parabola che abbiamo detto prima punto di partenza stima secante disequilibrio e il restoring quindi il passo successivo secante è questo e questa e il restoring è questo qui e questo è il residuo qui invece quello che cambia è la pendenza tangente che viene valutata nel punto appena ottenuto e si procede in questa maniera qua e poi è anche possibile considerare il fatto che non è necessario sempre per cambiare la rigidezza tangente la rigidezza con cui si risolve il problema non lineare perché per esempio il metodo tangente originale questo qui detto appunto di Newton-Raphson prevede che a ogni passo si aggiorni la rigidezza tangente mentre esiste una variante che si chiama Newton-Raphson modificato in cui la pendenza tangente è tenuta quella della prima iterazione dopodiché si riduce il disequilibrio utilizzando sempre questa pendenza qua in altri termini la matrice di rigidezza tangente o diciamo la matrice di rigidezza che serve a ridurre il disequilibrio può essere quella corretta valutata negli spostamenti correnti oppure quella all'inizio dell'iterazione oppure può essere anche in termini generali una qualsiasi matrice di rigidezza per cui per esempio potrei anche utilizzare nel ridurre il disequilibrio anche una per la matrice secante o una combinazione di matrici secante e tangente questo è anche quello che si trova nei codici di calcolo vedete qui in Strauss ci sono queste strategie ibride cosiddette in cui vedete la matrice di rigidezza può essere formata ad ogni iterazione ogni due soltanto la prima in maniera automatica quando per esempio il codice di calcolo individua un cambiamento notevole e significativo nella matrice di rigidezza ovvero nella risposta strutturale è un modo quindi diciamo adattivo di cambiare la rigidezza la matrice di rigidezza della struttura per arrivare alla soluzione in generale va detto che cambiare valutare ogni volta la matrice di rigidezza nel punto esatto che si è calcolato in genere aumenta la velocità di convergenza però rende anche più delicato più fragile lo schema risolutivo nel suo complesso quindi più facile che ci siano magari le divergenze numeriche viceversa tenere in conto la matrice di rigidezza all'inizio delle iterazioni tenendo sempre costante in tutte le iterazioni in genere si risparmia sulla fatturizzazione sulla costruzione della fatturizzazione della matrice di rigidezza però in genere porta a maggior numero di iterazioni il processo quindi è più lento diciamo clicchi di più iterazioni però potrebbe essere più convergente nel senso che magari risente meno di qui c'è l'estensione sia del metodo secante che tangente al caso multidimensionale in cui quello che abbiamo visto prima si tratta semplicemente di modificarlo considerando i termini di di divisione per la matrice di rigidezza tangente secante invece è un processo di inversione della matrice stessa ecco qui ritorniamo indietro per vedere bene un aspetto di convergenza vedete questa è la generica risposta strutturale questo è il livello di carico che abbiamo prefissato a una certa iterazione k abbiamo ottenuto questo spostamento quindi ci possiamo calcolare questo restoring e questo è il disequilibrio quando passiamo all'iterazione successiva otteniamo il spostamento qk più 1 che è il spostamento q con k più l'incremento che ci siamo calcolati ad esempio con il metodo tangente abbiamo quindi questo restoring e questo disequilibrio quindi in generale noi possiamo avere due possibilità di controllare la convergenza o sul disequilibrio e anche qui bisogna pensare di prendere qualcosa di normalizzato per renderlo in percentuale questa f qui potrebbe essere il livello di carico considerato ora possiamo considerare la convergenza sugli spostamenti quindi vedere di quanto cambia la soluzione che abbiamo considerato abbiamo ottenuto all'iterazione k più 1 rispetto a quella che abbiamo ottenuto all'iterazione precedente k la dividiamo per esempio per lo spostamento q con k più 1 moltipliciamo percentuale abbiamo anche qui la possibilità di vedere la convergenza in termini sui spostamenti in termini percentuali l'estensione di questo processo quantità da scalare a vettori richiede la definizione di ricordarsi quali sono le definizioni sulle norme sui vettori che sono qua richiamate e in particolare ci sono diverse norme che sono organizzate in questo modo qui questa è una norma sul valore massimo una norma infinita sul valore massimo delle componenti del vettore ci sono degli aspetti di altri tipi di norma questa è quella quadratica questa è la norma Manhattan e queste norme dal punto di vista questa definizione del norma sia dal punto di vista teorico sono più o meno equivalenti perché rispettano sempre e comunque queste condizioni specifiche dal punto di vista numerico non sono proprio equivalenti perché sono legate a come materialmente e proprio numericamente si misura la grandezza di un vettore in particolare per esempio se questo fosse un vettore di disequilibrio come si valutano i disequilibri della struttura stessa cosa per le matrici e uno degli aspetti che però volevo seguire a tornare è appunto questo le norme sui vettori per esempio sono tutti uguali dal punto di vista teorico ma numericamente non sono così supponiamo per esempio di dover valutare un vettore x con k e un vettore x con k più 1 che abbiamo ottenuto all'interazione successiva non importa se quelli sono spostamenti o disequilibri supponiamo che il vettore che noi controlliamo l'interazione cappesima sia fatto così prima componente 1 seconda componente 99 poi l'interazione k più 1 il vettore che controlliamo la nostra soluzione per esempio il nostro disequilibrio ha queste componenti qua 2 e 100 allora se io applico la definizione di norma 1 quindi calcolo semplicemente la somma del valore assoluto delle componenti del vettore 1 più 99 fa 100 in questo caso qui invece 2 più 100 fa 102 quindi se devo valutare questi due vettori qua quello che ottengo al passo k quello che ottengo al passo k più 1 vedete la differenza sulle norme è del 2% se considero la norma quadratica devo fare il quadrato delle componenti quindi 1 al quadrato più 99 al quadrato sotto radice 99,05 in questo caso qui 2 al quadrato più 100 al quadrato sotto radice fa 100,02 anche qui la differenza secondo questa norma qua è più o meno del 1,2% 1% è 100 se considero la norma infinita quindi prendo il valore più grande vedete che la componente più grande qui è 99 e il valore assoluto qui è 100 quindi questi valori qui sono sono norme più o meno equivalenti in termini di grandezza però non tengono in particolare conto che delle componenti del vettore questa è raddoppiata da qui quindi la prima componente del vettore ha cambiato del 100% quindi per far risaltare questo aspetto qui vedete può essere necessario in generale lo è considerare un fattore di normalizzazione quindi normalizzare le componenti del vettore con riferimento delle quantità che siano significative per esempio per la prima componente il valore di riferimento può essere proprio 1 quindi in questo caso qui se divido 1 diviso 1 normalizzo questo vettore mentre x con k piccolo rispetto a x con k grande all'interazione successiva qui ho 2 diviso 1 il fattore di normalizzazione sempre costante è 1 qui il cambiamento è 2 se faccio la stessa cosa sulla seconda componente per esempio un valore di riferimento ragionevole può essere 100 questo questo numero quindi 99 iso 100 fa 0,99 la stessa maniera che fa 1 qui quello che si nota è che se ho normalizzato così il vettore x con k e son k grande e k più 1 grande ottenendo questi vettori x piccolo con k x con k x piccolo k più 1 la differenza tra i vettori stavolta risalta perché vedete in questo caso qui la differenza è significativa la normalizzazione quindi riesce a risaltare ma fa risaltare che la singola componente del vettore in questo caso qui la prima è cambiata notevolmente in questo caso qui del 100% ecco in generale con questa accortezza qua sulla valutazione delle norme e anche comunque il l'insight nel problema strutturale si riesce a impostare e a controllare e convergere la soluzione con il diagramma che abbiamo già prima precedentemente se questi sono gli schemi base e schema secante schema tangente tangente modificato ed aspetti relativi alla convergenza con eventuale normalizzazione dei vettori di squilibrio o di cambiamento adesso possiamo pensare di affinare la soluzione considerando schemi risolutivi più ecco gli schemi risolutivi avanzati sono tipicamente quelli che si trovano anche nei coci di calcolo e per utilizzare consapevolmente i coci di calcolo in campo non lineare è necessario avere chiare le idee le strategie risolutive qui per esempio ci sono segnate queste strategie per calcolare la risposta non lineare per esempio scalare il carico scalare eventualmente lo spostamento per riuscire a cercare di avere la convergenza oppure qui abbiamo anche strategie più raffinate come vedremo dopo tipo l'arc length punto di partenza per valutare esattamente lo schema risolutivo in termini generali è ritornare indietro e rivedere la risposta strutturale quello che abbiamo visto prima in termini di restoni con un'ottica un po' differente interpretando quindi la risposta strutturale come un percorso di equilibrio allora guardiamo qui quello che succede in termini generali noi abbiamo sempre il prodotto il restoring con la letta R il carico e stavolta per semplificare un po' il quadro supponiamo che il carico dipenda sia fatto in questa maniera qui un vettore costante un vettore di carico costante è un fattore moltiplicativo lambda funziona in generale del tempo nel senso che supponiamo di avere una successione di fattori moltiplicativi di valori di fattore moltiplicativo questa equazione qua è l'equazione di equilibrio quando abbiamo il termine del carico a cui sottraiamo il restoring e otteniamo così detto residuo residuo quindi dipende dal vettore spostamenti x dal vettore di carico che è rappresentato come abbiamo detto prima un moltiplicatore scalare per il vettore y fissato la coppia di questi due vettori al variare di t in generale rappresenta il percorso di equilibrio della struttura per l'assegnata storia di carico che vuol dire che fissato t ovvero è fissata la generica scissa curvilinea s che rappresenta un modo di pensare di percorrere la risposta strutturale per ciascun valore di t ovvero di s questo è un punto nello spazio che rappresenta l'equilibrio quello distante lì della struttura l'equilibrio della struttura sotto un certo vettore di carichi e manifestando un certo vettore di spostamento se consideriamo il caso monodimensionale per semplicità qua abbiamo lo spostamento x qua abbiamo il carico espresso in questa maniera e qui abbiamo delle curve che rappresentano come può essere convoluto come può essere convoluto il percorso di equilibrio per la risposta strutturale in particolare vedete qui in certo punto qui questa è una situazione di equilibrio lungo il percorso di equilibrio con la scissa caratterizzata dalla scissa s in cui per questo valore di carico io ho in corrispondenza questo valore di spostamento e in nero abbiamo quello che è detto il percorso fondamentale della nostra struttura e lungo questo percorso qua di equilibrio si trovano in particolare i cosiddetti punti singolari punto singolare a punto di biforcazione in cui il percorso di equilibrio primario presenta una diramazione con un percorso di equilibrio secondario denominato in questa maniera questo è un altro punto di biforcazione in cui ci sono questi percorsi di equilibrio secondari un altro punto il punto singolare è questo qui il punto b in cui si ottiene quello che è un massimo massimo locale della risposta strutturale alla stessa maniera il punto g è allo stesso termine un punto singolare limite se consideriamo l'equazione dell'esquilibrio che abbiamo visto prima e ne calcoliamo la derivata ovviamente anche la derivata è nulla questo però ci permette di mettere in evidenza quella che è la rigidezza tangente che abbiamo già visto prima che è la derivata del restoring rispetto allo spostamento qui espressa in forma matriciale e se consideriamo un incremento finito della scissa x cioè pensiamo di muoverci con un incremento finito delta s lungo il percorso di equilibrio in corrispondenza possiamo pensare di avere questi incrementi del vettore spostamento e questo incremento del moltiplicatore di carico abbiamo quindi l'equazione incrementale se volete quella in forma tangente che abbiamo già visto prima che è espressa in una forma un po' più idealizzata in cui vedete abbiamo l'incremento di carico e deve equilibrare l'incremento di restoring interno e all'equilibrio lo squilibrio deve essere nullo questa forma qui incrementale ci permette di fare queste considerazioni qua allora se io posso invertire la matrice di rigidezza nessun problema in funzione di questo incremento di carico ottengo questo incremento di spostamento questa equazione però non la posso risolvere quando determinante la matrice di rigidezza è 0 quindi ci sono dei punti che sono detti sono detti punti singolari come abbiamo visto prima in termini grafici dove la matrice di k non è invertita allora i punti singolari quando la matrice è appunto singolare vuol dire che esiste un vettore un autovettore quindi un vettore non completamente non identicamente nullo tale per cui valgono questa relazione chiaramente la trasposta se modifichiamo l'equazione incrementale tutte per fi trasposto otteniamo questa relazione qui che è verificata se almeno una delle due alternative seguenti è vera allora questo termine qui è sicuramente nullo perché l'abbiamo visto prima questa perché sia valida lo squilibrio nullo deve essere nulla questo termine qua questo termine qui può essere nullo o in questo caso questo termine qua è nullo oppure perché è nullo questo termine qua scalare che vuol dire che in questo punto singolare abbiamo questo il punto di biforcazione quindi ci può essere ancora un incremento di carico un incremento in senso positivo o negativo mentre se siamo in questo caso qui l'incremento di carico non può essere perché siamo arrivati a un massimo relativo quindi questo è il punto analitico il punto critico limite in cui non ci può essere un delta lambda positivo adesso sull'orizzontale positivo o negativo questo invece è un punto di biforcazione in cui posso avere un decremento delta lambda diverso da zero l'intorno infinitesimo di questo punto qua perché comincio a seguire questo percorso di equilibrio vedete comunque che in prossimità dei punti singolari limite o di biforcazione nell'intorno infinitesimo esistono più soluzioni nel caso di punto limite esistono queste due soluzioni qua più o meno allo stesso livello vedete questa è una tangente con dentro la lambda che è zero nel caso invece il punto di biforcazione sempre nell'infinitesimo di questo punto qua il delta lambda è differente e questi due punti qua sono vicini all'infinitesimo però hanno per esempio un decremento di carico possibile questo è vedete l'aspetto in cui è evidenziato il fatto in cui in prossimità di un punto singolare la soluzione non è unica esistono molteplicità di soluzioni come abbiamo appena evidenziato ci sono poi altri punti che sono quelli per esempio a tangente verticale che possono essere considerati punti comunque limite perché basterebbe scambiare l'asse dei x con l'asse y poi c'è in generale il punto terminale h o altri punti di questo tipo qua in cui c'è la cosiddetta rottura della struttura perché il materiale che ha fatto la struttura raggiunge la massima capacità deformativa questa è una situazione ideale in cui il percorso di equilibrio fa riferimento a una struttura ideale o perfetta e questo percorso qua in equilibrio la situazione ideale è alterata la presenza di imperfezioni o di aspetti dinamici quindi queste imperfezioni fanno sì che di tutti i punti singolari i punti singolari di bifurcazione siano distrutti non sopravvivono alle imperfezioni mentre quegli limiti continuano a mantenere il loro carattere di punto di singolarità sono quindi i punti limiti caratterizzati da quella proprietà analitica che è detta stabilità strutturale ovvero sopravvivono appunto anche alle imperfezioni ecco quindi se consideriamo le imperfezioni per esempio vedete questo punto qua di bifurcazione questo percorso qua viene in effetti tramutato in questo qui le imperfezioni fanno arrotondare più o meno grandemente il percorso di equilibrio e la struttura risponde sempre con il percorso seguendo il percorso più basso di carico questa parte qui questa perdita qui è quella che viene detta sensibilità alle imperfezioni come vedete per esempio anche in questo caso qui sensibilità alle imperfezioni portano per esempio una capacità la riduzione della capacità portante della struttura di circa il 40% alla stessa maniera se non ci fosse questo percorso qua di equilibrio più 1 la struttura se fosse imperfetta potrebbe arrivare fino qua potrebbe seguire questo qua poi però questo punto qua di bifurcazione sarebbe annullato dall'imperfezione il percorso di equilibrio sarebbe questo le imperfezioni quindi uccidono i punti di bifurcazione arrotondano la risposta strutturale e fanno sempre seguire la struttura il ramo con la risposta strutturale più bassa quindi più sfavorevole in termini di risposta di ristorante di capacità portante della struttura chiariti questi punti qua sul percorso di equilibrio adesso vediamo come avvicinarci a percorrere ma trovare uno schema risolutivo o schemi risolutivi che percorrano questo percorso di equilibrio quindi calcoline la risposta strutturale come avete visto dalla descrizione precedente il percorso di equilibrio ha una certa difficoltà geometrica è frastagliato quindi non è immediato pensare di percorrere la strada con una strada così accidentata allora la prima operazione è qualcosa che abbiamo già visto in parte prima ed è un processo di normalizzazione quindi si passa dal vettore carico come definito inizialmente lo si scala in generale si può scalare attraverso una matrice diagonale quindi scalando componente per componente oppure in una maniera diciamo anche più semplice si può scalare attraverso un moltiplicatore beta indicato qui come beta comune tutte le componenti resta il fatto che il significato geometrico di questa scalatura è questo noi passiamo da uno spazio in cui la curva è comunque orientata in particolare può essere inclinata come si vuole a una curva che nello spazio è diciamo inclinata in maniera più regolare per esempio se ci fossimo se x fosse uno scalare e y fosse uno scalare quest'angolo qui sarebbe 45 gradi questa normalizzazione intesa così in senso geometrico faciliterà dopo come vedremo riuscire ad avanzare lungo questa curva rappresentata in una maniera così diciamo più uniforme o isotropa nella direzione degli spostamenti e dei carichi secondo passo che noi dobbiamo considerare è che se pensiamo di percorrere percorso di equilibrio di seguire il percorso di equilibrio ci sono degli indicatori nella qualità del percorso stesso e gli indicatori fanno riferimento chiaramente al fatto che quel punto quello tratto di percorso di equilibrio la risposta è stabile oppure instabile o quant'altro ecco se noi pensiamo di seguire questa generica curva fatta così sempre qui abbiamo spostamento e qui carico rappresentato come un vettore y costante per moltiplicatore lambda ci rendiamo conto che il primo tratto quello in rosso è un tratto stabile nel percorso perché vedete un incremento di carico corrisponde è un incremento di spostamento invece il tratto 2 questo qui tratto in blu è un percorso instabile per cui per avanzare in termini di spostamento devo diminuire il carico alla stessa maniera il tratto 3 anch'esso è un tratto instabile è un cosiddetto caso di softening post critico questo è un punto il punto c è un punto limite e invece dopo ancora un tratto instabile si riprende col percorso 1 questo qui finale dai ad f dal punto e al punto f in cui la soluzione è ancora pertinente a un tratto di percorso che è stabile vedete quindi che essenzialmente quello che si fa in questo caso qui per avere un indicatore di qualità del percorso di equilibrio si saggia cosa succede quando c'è un incremento di spostamento se un incremento di spostamento è conseguente a un incremento positivo anch'esso di carico l'equilibrio è stabile altrimenti è instabile il percorso che stiamo seguendo ecco qui abbiamo un po' più dettagliato le caratteristiche dei vari tratti del percorso di equilibrio nel senso che prima era avevamo una distinzione essenzialmente soltanto stabile e instabile qui adesso invece possiamo diciamo discriminare meglio i vari aspetti vedete per esempio che il tratto 1 questo AB da qui fino a qua per un incremento di carico positivo c'è un incremento di spostamento positivo la matrice di rigidezza è definita positiva e l'incremento di lavoro è positivo il tratto 2 invece presenta un incremento di carico negativo un incremento di spostamento positivo e la definizione della matrice di rigidezza è negativa l'incremento di lavoro è negativo il tratto 3 è un incremento di carico negativo incremento dello spostamento negativo la matrice definita negativa l'incremento di lavoro è positivo vedete quindi come per esempio il tratto 2 e il tratto 3 sono sempre instabili la matrice di rigidezza è sempre negativa però vedete come cambia per esempio l'incremento di lavoro alla stessa maniera gli altri casi qui in questa tabella qua questo è questo qui l'incremento di carico questo è l'incremento di spostamento un parametro numerico che permette di definire la qualità del percorso equilibrio è il cosiddetto parametro di bergan che è definito qua sotto ma forse ci conviene guardarlo con riferimento a questa figura qua vedete il parametro di bergan è un rapporto tra il lavoro che viene sviluppato per un certo incremento di carico delta lambda moltiplicatore scalare del carico all'origine rispetto a quello che viene fatto una generica posizione come questa quindi si ha per lo stesso vettore di carico superiore delta lambda uguale lo si moltiplica per lo spostamento o l'incremento di spostamento che si ha all'origine e qua sotto invece per lo spostamento che si ha nella generica posizione questo è un modo diciamo sintetico per rappresentare la rigidezza della struttura come varie in particolare il parametro di bergan all'origine la struttura scarica vale chiaramente 1 poi man mano per esempio in questo caso qui decresce arriva un valore che è 0 quando arriva al punto limite quando dopo ho qua sotto l'altro punto limite verticale il parametro di bergan tende a infinito e così via quindi questo è un modo diciamo numerico per valutare quantitativamente il carattere del percorso equilibrio in particolare quando b è maggiore di 1 questo parametro b maggiore di 1 il percorso è stabile altrimenti è inestabile ecco con questa con questi preliminari qua quindi normalizzazione individuazione del carattere del percorso equilibrio con quella tabella che abbiamo visto prima e particolare dopo col parametro di bergan siamo pronti a affrontare effettivamente il a seguire il percorso di equilibrio allora c'è una prima fase di predizione in cui vedete noi siamo supponiamo di essere in questa generica posizione 0 che abbiamo raggiunto con questo spostamento sotto questo carico e dobbiamo avanzare allora percorrere l'equilibrio muovaci sul percorso di equilibrio abbiamo due aspetti da considerare uno la direzione cioè se incrementare o decrementare il carico qui chiaramente lo incrementiamo però se fossimo qua dietro dovremmo decrementarlo poi scegliere quanto grande quanto grande il nostro passo per esempio qui in questo caso qui abbiamo deciso di andare avanti però per esempio andare avanti potrebbe considerare di arrivare a questo punto qui uno primo poi in effetti dobbiamo scalare perché altrimenti rischiamo di divergere e di non fare la soluzione la scelta dell'incremento e decremento del carico è fatta dicevo prima attraverso questa tabellina qui no? quindi in questa maniera qui a seconda di questi caratteristiche qua non sappiamo se dobbiamo incrementare o decrementare il carico seguendo questo percorso qui tenendo traccia le caratteristiche del percorso di equilibrio prima di affrontare anche dopo la fase di correzione c'è un artificio un modo di scomporre l'incremento di spostamento in questa maniera qui secondo battos del dot l'incremento di spostamento delta x è dato chiaramente per l'inverso della matrice di giudezza per l'incremento di carico che noi pensiamo di fare più il residuo che avevamo all'iterazione precedente ecco questo incremento qua di carico scusate questo incremento qua di spostamento lo possiamo scomporre in questa maniera qui come una parte legata al fatto che c'è un incremento di carico e una parte legata al fatto che dobbiamo ridurre e eliminare il residuo è una scomposizione diciamo in questo momento qua solo formale no? però è utile per separare due contributi quindi fissato il carico se non c'è questo noi abbiamo soltanto da correggere lo spostamento per ridurre il residuo alla stessa maniera però ci teniamo liberi la possibilità di cambiare l'incremento di carico per avvicinarci alla soluzione allora scelta la direzione ovvero l'incremento e decremento del carico qui dobbiamo decidere quanto fare grande il passo il primo modo è quello di fissare una certa lunghezza delta l sul percorso di equilibrio una quantità geometrica delta l quadrato ha l'espressione questa espressione qua da cui si indicava l'incremento di carico incremento che può essere positivo o negativo a secondo di questo segno qua più o meno e la scelta se incrementare o decrementare il carico è fatta in base a quello che abbiamo detto al punto 1 le caratteristiche del percorso di equilibrio del tratto di percorso di equilibrio che sta percorrendo un secondo modo è dire no guarda non mi interessa tanto quanto lungo geometricamente deve essere il passo ma mi interessa vedere quanto lavoro viene sviluppato all'interno del passo e in particolare viene delimitato questa quantità qui in questa maniera qui e ancora una volta si trova questo incremento decremento del carico il segno è sempre più o meno sempre stato è sempre stato e se è scelto in base a quello che abbiamo visto prima sulle caratteristiche del percorso di equilibrio sono due modi differenti di interpretare quanto grande deve essere il passo il primo è una cosa puramente geometrica questa secondo invece fa riferimento al fatto che nel generico passo se io voglio una soluzione accurata deve succedere poco o diciamo deve succedere una cosa limitata in quel passo dire che succede una cosa limitata vuol dire che deve essere sviluppato un lavoro limitato delta W segnato perché altrimenti vuol dire che meccanicamente in quel passo lì sono successe sono avvenuti diversi sono avvenuti fenomeni troppo troppo grandi rispetto a quello che voglio misurare io c'è anche da dire che un modo più diciamo analitico che si rifà proprio la natura di come si può seguire una curva nello spazio è la contemporanea predizione limitazione sviluppata da Seidel Seidel in questo momento qui fa questo lui considera di tutto il vettore delta x che si ottiene all'inizio del passo si trova la massima componente la cappesima e quello che viene fatto è limitare questa massima variazione della componente più grande del vettore delta x in modo tale che anche qui si faccia il passo geometricamente e limitato a una certa quantità questo a questo punto siamo pronti per elencare in forma di flosciare come deve essere organizzato il solutore dal punto di vista della della programmazione dell'implementazione un codice di calcolo e adesso possiamo vedere qua come può essere sviluppata la fase di predictor allora siamo all'inizio dell'incremento di carico ci calcoliamo la matrice di righezza tangente della struttura poi dobbiamo cominciare a trovare l'indicatore del tipo di percorso che si sta percorrendo questo allora le possibilità sono diverse la prima è con qualche metodo iterativo calcolarci l'autovalore massimo e minimo della matrice di righezza oppure possiamo pensare di calcolarci tutto lo spettro e faccio notare che in generale in un punto di biforcazione non c'è soltanto un autovalore che è nullo ce ne sono di più perché il percorso di equilibrio può biforcarsi in più rami secondari in un punto di biforcazione quindi il punto di biforcazione può essere non semplice ma un multiplo o in alternativa si può pensare di partire fattorizzando la matrice di righezza e calcolare i termini pivotali con i diagonali negativi e dopo eventualmente fare dei controlli sull'autovalori minimi a questo punto possiamo sviluppare la fase di predizione vera e propria e ci troviamo il vettore tangente al figlio della matrice di righezza tangente invertita ci valutiamo il parametro di Bergen e la prima volta abbiamo valutato un fattore di scala con cui il famoso beta con cui rapportare il normalizzare il carico e otteniamo questa espressione qua questa è con l'arc length questo considerando un incremento di carico costante questo invece l'intervento l'incremento di Seidel come abbiamo visto prima ecco in queste espressioni qua le prime due il segno è positivo è scelto se il parametro Bergen è positivo e a seconda degli indicatori la tabella che abbiamo visto prima sul tipo di sulla qualità del percorso di equilibrio dopo di che ci siamo ottenuti questi incrementi di spostamento e di carico una cosa su cui vorrei tornare indietro è questo punto qua vedete questo punto qua forse in mezzo a tutto il resto del procedimento sembra quasi indolore però in effetti qui c'è questa operazione qui può essere fatta solo se effettivamente non siamo proprio nel caso proprio in quel punto in cui la matrice di direzza tangente è singolare altrimenti chiaramente l'operazione non si può fare ecco questa è una situazione che diciamo dal punto di vista numerico nel caso più generale no? quindi quando si considera una struttura con molti della libertà cioè è proprio una un'occasione diciamo assolutamente specifica e difficilmente altamente improbabile eventualmente quello che si può fare è scegliere un incremento di carico arrivare proprio al posto di arrivare proprio nel punto di di colmo in cui la matrice è singolare se si cambia leggermente i passi che si sono fatti in modo tale di non arrivare proprio alla coincidenza con la matrice di direzza singolare si può comunque superare il punto questo punto particolare quindi eventualmente si può ripercorrere il tratto di percorso di equilibrio alterando magari diminuendolo di poco aumentandolo di poco il passo in modo tale di non avere proprio la coincidenza di finire sul punto di singolarità del perfetto di equilibrio adesso possiamo passare a vedere tutte le strategie le differenti strategie con cui si arriva alla correzione della soluzione prevista alla fine della fase di predictor allora in questo momento qua abbiamo fatto una predizione iniziale l'abbiamo scalata per non fare il passo troppo lungo e ci troviamo quindi qui adesso nelle varie fasi di correzione noi dobbiamo spostarci da questo punto qua e arrivare sul percorso di equilibrio della risposta strutturale vera della reale della nostra struttura allora per fare questo ci ricordiamo la notazione di battezzedot precedente dobbiamo da una parte diminuire quindi corregge gli spostamenti cercando cercando di ridurre lo squilibrio dall'altra parte però possiamo anche operare cambiando eventualmente diminuendo o eventualmente aumentando l'incremento di carico che avevamo previsto nella fase di predictor ecco questo è il diagramma che riassume la situazione è uno di quei diagrammi diciamo topici in questa lezione qua allora cerchiamo di leggerlo qui abbiamo chiaramente il vettore dei carichi qui abbiamo il vettore degli spostamenti la rappresentazione è scalare quindi monodimensionale per comodità no? noi abbiamo al passo precedente per questo vettore di carico abbiamo ottenuto questo punto e questa soluzione qua in termini di spostamenti nella fase di predictor abbiamo siamo partiti con questa rigidezza tangente abbiamo inizialmente pensato di spostarci fino qua però dopo abbiamo ridotto lo spostamento per fare il passo non troppo lungo in questo punto qua siamo alla fine della fase di predictor e abbiamo quindi ottenuto questi aspetti questo è il nostro vettore di restoring considerando che gli spostamenti che abbiamo ottenuto dopo la fase di predictor erano questi più questo incremento qua gli spostamenti qua l'incremento di carico che abbiamo dato era questo quindi questo era l'incremento delta x1 questo qui perché la pendenza la tangente era questa qui siamo arrivati quindi in questo punto qua in questo punto qua il carico è arrivato a questo livello qui però il restoring è solo questo quindi questa parte qui ovvero questa è il residuo alla fine della fase di predictor questa fase qui alla fine della fase di predictor noi ci calcoliamo prima di tutto la rigidezza tangente che è questa qui dopodiché abbiamo due termini da considerare se volessimo semplicemente ridurre il residuo delta r che è questo qui con questa pendenza qua l'incremento di spostamento sarebbe questo qui vedete che questo è il residuo questo è lo spostamento delta r questa è qui la tangente come vedete se facessimo così però ci allontaneremo di molto da questo punto qua alla fine della fase di predictor finiremo qui e poi puramente il residuo diventa ancora più grande perché la curva entra nel tratto di softening quindi abbiamo bisogno di in un certo senso tornare indietro dunque questo spostamento qua che è quello legato al fatto che pensiamo di decrementare con questo vettore qua verde il carico in questa maniera qui abbiamo un decremento di carico questo da questo punto qui a questo vettore verde verticale a cui consegue questo spostamento qua questo vettore qua spostamento verde vedete la pendenza è sempre la stessa in rosso è quello l'incremento di spostamento del residuo che avrei in verde se diminuisco il carico lo spostamento di ritorno che io ho e quindi alla fine la correzione che penso di fare è questa incremento di un delta piccolo x1 che è dato da questi due termini qua delta r che è il vettore rosso del residuo dato lo spostamento del residuo meno meno il spostamento dato dal fatto che ho decrementato il carico di delta piccolo 1 questa è un'immagine ancora più ingrandita alla fine della fase di predictor questo è il mio restoring questo è il livello di carico se volessi ridurre semplicemente il residuo mi dovrei spostare questo vettore qua rosso questo è il residuo la tangente è la linea tratteggiata esiste alla fine della fase predictor però non aumento di tutto questo lo spostamento perché ritengo che sia più opportuno diminuire il carico di questo vettore qua verde che è un delta 1 delta 1 lambda y che per esempio per la stessa rigidezza tangente mi dà questo decremento di spostamento quindi io voglio spostarmi alla fine della dalla prima alla fine della fase di predictor che è questo punto qua alla questo punto qua verde che è il la correzione che faccio la prima volta la prima iterazione è la fase di corrector come vedete questa fase di ritorno indietro per diminuire diminuendo il carico questa parte qui di ritorno verde diminuendo il carico questo qui e si vede anche geometricamente è essenziale per avvicinarsi di più alla curva per il punto alla zona in cui devo arrivare questo qui devo cadere sulla curva questo qui se avessi soltanto il residuo probabilmente finirei non so dove ma forse tendenzialmente divergerei ecco questa è l'idea no diminuire e controllare il carico diminuendolo eventualmente se sono in una fase come questa di culmine della risposta oppure pensate prima al percorso equilibrio più strano a volte è necessario aumentarlo e così via a seconda del carattere del percorso di equilibrio però questa è l'idea adesso tutti i vari metodi che vedremo tutte le varianti sono legate al fatto di come scelgo questo decremento del carico vediamo dal punto di vista algoritmico di flowchart come viene fatto questa è la fase di corrector sono in questo punto qua che è la fase al fine della fase di corrector mi riformo la matrice di egidezza se uso Newton-Raphson qui potrei anche usare un Newton-Raphson modificato in certi versi quindi speriamo in questa parte qui però c'è un po' il fatto che in questa maniera qui io perderei il carattere del percorso del tratto del percorso in cui sono perché ancora una volta qui devo calcolarmi quanti sono i termini pivotali negativi eventualmente se il numero dei pivot negativi è cambiato posso individuare che ho appena passato un punto singolare tornare indietro con un passo più piccolo e così via mi valuto comunque il restoring e il residuo facendo un test sulla convergenza e in base a questo adesso posso correggere gli spostamenti che sono fatti in questa maniera qui adesso il punto delicato è questo qui questo punto qua la correzione sul carico quindi questo termine qui è scelto in base a tutte queste considerazioni qua queste sono tutte varianti su come correggo il livello di carico e ci sono quelle in cui considero il carico costante per cui questo lo tengo sempre fisso lo tengo zero quindi considero l'incremento di carico che ho fissato la prima volta nella fase di predizione e questa è una strategia che chiaramente non è efficiente non è efficace quando sono in prossimità del cumine della mia curva della mia risposta dottorale oppure ho tutte queste altre versioni qua in cui vedete mi calcolo sempre questo delta lambda 1 delta piccolo 1 lambda a seconda delle idee di questi autori qua no infine anche uno dei metodi più più sofisticati è quello di Cresfield che è presentato qua io adesso non non vorrei entrare nelle qui dietro vi posso lasciare tutte le tutte le considerazioni che hanno portato alle varie le varie varianti di come correggere il carico no essenzialmente queste varianti qui sono basate su condizioni di ortogonalità tra l'incremento della fase di predizione e la fase di correzione su considerazioni che sono essenzialmente geometriche oppure su considerazioni che sono in tipo diciamo energetico ovvero sul lavoro per esempio questa qui avevamo detto che all'inizio il passo era scelto fissando un certo limitando l'incremento di lavoro che era si poteva sviluppare in quel passo lì ecco nella fase di correzione si dice che non si può incrementare il lavoro nella fase di correzione quindi si fissa questa costante uguale a zero e ci sono varie altre varie indicazioni sempre alcune sulle parti geometriche alcune sulla parte di energia poi ci sono delle proposte di pesare l'incremento considerare non lo spostamento singolo ma un incremento di spostamento pesato in qualche maniera sono tutte idee che sono ragionevoli e portano a formulazioni più o meno complesse più o meno funzionanti ripeto non voglio entrare dopo nel nel dettaglio di questi di questi schemi qui vi ripeto pensate al diagramma quello che vi ho fatto vedere prima l'idea è quella di da una parte correggere lo squilibrio però anche l'altra parte per atterrare sul percorso di equilibrio diminuire anche se sono in una situazione di punto limite e diminuire il livello di carico allora vediamo di arrivare ad alcune conclusioni della lezione che abbiamo visto oggi mi preme prima di tutto farvi notare questo ricordarvi questo ovvero quella che la mia interpretazione della processionale strutturale alla luce della mia esperienza la strutturale è una storia un'esplorazione del comportamento strutturale quindi io esploro e anche imparo nel suo tempo come funziona la struttura nel esplorare il comportamento strutturale sviluppo diversi modelli via via più più raffinati ovvero più complessi complicati ecco il punto di partenza è sempre la valutazione iniziale analitica una capire i limiti entro i quali mi aspetto alla soluzione e in generale devo sviluppare devo tenere presente due strategie devo vedere a cosa è sensibile la risposta quindi io cambio quando cambio qualcosa nella mia modellazione io vedo se quello che ho cambiato è una cosa che ha dei riverberi sui risultati oppure no e l'altra cosa devo fare cercare di delimitare comunque la risposta guardate non esiste in generale un numero solo ben definito che identifica la soluzione strutturale un problema complesso poi devo sviluppare l'analisi con ridondanza e robustezza e quindi ho considerato più solutori dopo giudicare i vari i vari risultati e mi ricordo che l'analisi strutturale non è democratica nel senso che come abbiamo visto col film di Tom Cruise potrebbe essere magari giusto l'unico valore quando tutti gli altri ne dicono un altro questo è forse il quadro più generale con cui sviluppare un'analisi strutturale anche in campo lineare perché anche in campo lineare la cosa non è semplice in campo non lineare poi la risposta che si ottiene può essere anche veramente strana complicata frastagliata e per esempio una delle cose che vi faccio vedere è con riferimento a questo grattacielo qua questo per esempio è il pushover come è stato ottenuto e vedete questo è il pushover di questo edificio qua che è ben distante dalla rappresentazione regolare che alle volte si fa per esempio in quasi tutti i testi di sismica che si ricopriano l'uno con l'altro generale la risposta è frastagliata non c'è una curva smooth regolare ecco una delle cose essenziali da fare è riuscire a come è stato fatto in questo caso qui vedete ogni saltino ogni dentino rappresenta per esempio questo qui anche molto grande una qualche rottura qualche collasso parziale locale all'interno della struttura ecco deve essere interpretato questo collasso qui quindi la curva non è una cosa che si forma in maniera automatica mando in pasto al calcolatore l'analisi lineare dopo tengo fuori una curva morta lì no è necessario sempre interpretare meccanicamente che cosa è successa cosa è dovuto questo salto qui anche perché come abbiamo visto prima per esempio pensate di essere in questo punto qui magari si finisce proprio in questo vertice qua con la singolarità precisa della matrice lì il calcolatore si arresta è significativo questo arresto numerico beh rispetto a tutto il resto no quindi per esempio è sempre necessario giudicare cosa è successo dal punto di vista numerico interpretarlo in termini meccanici e poi eventualmente se si vuole superare questo dentino qua pensate se voi prendete un passo di carico più alto più basso più grande più piccolo magari non vedete questa piccola questo foruncolo qua della risposta strutturale ma magari andate a ottenere la risposta più più importante è per esempio questa vi ricordo che dal punto di vista numerico per un codice di calcolo questo punto qua è difficile tanto quanto questo no? se si finisce su questa spina qua è come essere finiti qua quindi per il codice numerico il codice di calcolo la singolarità della matrice è la stessa però il riverbero in termini di interpretazione meccanica è completamente differente e l'analista deve fare questa cosa qui deve essere cosciente e interpretare correttamente la risposta strutturale eventualmente gli arresti le singolarità e warning che sono emesse dal codice di calcolo un'avvertenza è questa spesso lentieri anch'io in questa lezione qua ho fatto riferimento a un caso di percorsi di equilibrio nel piano quindi ho messo in orizzontale uno spostamento e in verticale un carico e questo serve alle volte per illustrare le idee e così via ma bisogna sempre ricordarsi che in effetti quello che si fa nel piano non è quello che si fa in uno spazio a molti della libertà quindi è ingannevole estendere più di tanto le considerazioni che noi facciamo in un piano rispetto a quello che si fa nello spazio anche tridimensionale per non parlare di multidimensionale alcune considerazioni poi anche che magari non sono presenti nei testi proprio quelli più teorici ma sono considerazioni che fanno parte di chi ha fatto tante analisi non lineari come penso sia stato io pensate per esempio a tutte le varianti sulle correzioni delta piccolo 1 del carico del lambda ce ne sono tante sono tutte se voi tornate indietro e vi leggete le motivazioni che hanno portato queste correzioni qui queste varianti sulle correzioni del carico sono tutte ragionevoli però non è detto che funzionino cioè ognuna di queste varianti qua in generale in analisi non lineare ci sono una serie di passi che devono essere sicuramente sensati ragionevoli fondati su una qualche considerazione abbiamo visto geometrica oppure energetica ovvero sul lavoro però sono tutte strategie idee che possono funzionare oppure no quindi c'è una grossa parte di euristica che riguarda come risolvere un problema quindi tutti i solutori tutti i procedimenti solutivi sono caratterizzati dal termine euristico in cui c'è vedete un'idea direttrice di come risolvere il problema no e come impostare il mezzo di ricerca che è però questo serve per cercare di trovare un risultato che dopo però deve essere comunque controllato e valutato io mi ricordo che quando ero studente di dottorato l'ultimo anno forse ero il primo secondo anno di ricercatore con l'Italia Milano ho lavorato per circa sei mesi a tempo pieno sugli schemi risolutivi che vi ho fatto vedere prima e c'era in particolare uno che non mi tornava perché implementato proprio non funzionava no gli altri funzionavano le volte sì e le volte no secondo il tipo di novità e a un certo punto in un congresso ho incontrato il professore, l'autore il famoso illuminare che aveva proposto questo metodo risolutivo X allora mi sono avvicinato timidamente e gli faccio a professore scusi io sono giovane e buon tempio ho cercato umilmente di ricostruire il suo procedimento e così via e non riesco a capire come mai non funziona e volevo chiederle se mi può dare qualche consiglio qualche osservazione così questo grande illuminare fa un passo indietro mi guarda l'alto in basso e mi fa ma guardi io mica l'ho implementato mica l'ho provato il mio metodo quindi non so se funziona oppure no nella realtà e questa è stata una grossa lezione perché un conto è un aspetto di teoria e un conto è come funzionano le cose vi lascio con alcuni riferimenti io ho usato spesso le figure anche le idee di questo libro qua che secondo me è notevolissimo tra l'altro Batte è stata una persona che non è sempre stato ben apprezzato dal mondo accademico perché è una persona che ha avuto una vicenda strana ha lavorato per tanti anni anche nel mondo professionale industriale e fuori quindi è sempre stato visto un po' con circospezione dagli accademici puri proprio perché sembrava quasi se fosse sporcato le mani e in effetti invece questo libro qua e anche il software che ha sviluppato qui ha sviluppato lui e i suoi collaboratori in particolare la Dina sono software efficaci che risolvono problemi reali a differenza di tanti teorici che mettono sul tavolo delle idee che poi non sono funzionanti un'altra persona che ha avuto una carriera una vicenda un po' strana è Crisfield inglese Batte era sudafricano dopo il trapiantato negli Stati Uniti Crisfield è stato ha lavorato anche per tanti anni nell'agenzia di trasporti inglese e poi a un certo punto è entrato all'Imperial College come professore e anche questa è stata una persona che all'inizio non è sempre stata ben accetta ha sviluppato dei solutori in particolare l'Aklent vero e proprio e dopo ha scritto anche questi due libri qui in particolare questo è molto bello questo è invece un po' più frastagliato e ha sviluppato considerazioni e coci di calcolo effettivi che sono funzionanti e vanno bene volevo anche chiudere ricordarvi che questa lezione qua è dedicata al professor Ciampoli qui trovate il mio sito e il canale YouTube su cui sono riportate le mie lezioni chiudo con questo indice qua di quello che abbiamo visto in questa lezione e mi permetto di sottolineare ancora una volta questo aspetto qua risolvere un problema reale e non lineare richiede pazienza e tenacia cosa che non sempre è evidente nelle persone che scrivono contributi puramente teorici e fanno i cosiddetti esercizi accademici grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti